Io non tocca che fai l'imitazione degli altri, boh vabbè Eccoci qua Dicevamo? Ok, faccio io l'imitazione allora Un anno su Twitch Un anno su Twitch Allora, voi ragazzi, chiunque si trovi in chat e voglia entrare Ovviamente siete benvenuti perché non è più un prodotto di nicchia Il Caldiero in studio and gang Visto che Già è fallimentare Se lo rendiamo più pure di nicchia, mi sembra un po' eccessivo Dicevamo, come state ragazzoni? Come stai nera? Come stai iurone? Credo che mi stavo grattando il naso in primo piano Beh, bene, bene A parte qualche piccola rottura di balle che ha pervaso il mio povero cagnolino No Sì, ovviamente tipo si è grattato un po' troppo l'orecchio Che evidentemente ha ancora lotite Nonostante un mese che ce l'ha fuori figlio Sì E oggi abbiamo dovuto mettergli l'imbuto perché sennò si gratta continuamente Poverino Però tutto il resto è... Dici cani a parte anche se i cani sono il futuro della nazione, mannaggia Il futuro dell'essere umano I cani sono il futuro della mia psiche che rimane normale No, sono d'accordissimo Allora, abbassiamo io Nonostante i miei filtri del microfono sono sempre gli stessi Ogni tanto entra più voce, ogni tanto ne entra di meno Tenere allora questo test, raccontaci Non è meglio io No, sì Il test Ho fatto un test per uno studio di animazione a Torino Di cui non posso essere più specifica perché sennò violo l'accordo di non divulgazione Addirittura Ci sono stati dei piccolissimi incidentini di percorso Ovvero che la persona che ci doveva fare un briefing introduttivo Praticamente il secondo giorno del test non ha potuto perché sta... va male Ci hanno detto che non stava tanto bene E allora rimandiamo... aspettate, vi mandiamo un riassunto scritto con le cose che dovete fare Poi attendo tutto il secondo giorno non arriva neanche quello Per darvi un'idea per essere un pochino più semplice Le cose sono arrivate il mercoledì Dovevo lavorarci tutto il giovedì La consegnera venerdì alle 10 Allora, giovedì sera scrivo Ma questo coso? Questo documento? Ce l'avate? Mandarcelo entro domani mattina Prima delle 10 E no, mi dispiace Non abbiamo potuto neanche quello Rimandiamo la chiamata, il briefing a lunedì Al primo pomeriggio Dico, va bene, così abbiamo tutto il fine settimana appunto per fare un'altra metà del test Che quella non aveva bisogno di spiegazioni Evviva! Poi lunedì bisognava fare questo briefing Ho aspettato con le braccia così mezz'ora davanti a Google Meet L'applicazione che ci hanno fatto usare E aspetta, 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 mezz'ora Poi arriva la persona che ci aveva fatto i colloqui diciamo conoscitivi la settimana prima Dicendoci, eh, la regista è ancora malata Non sta ancora bene Quindi sono venuta al volo Perché io nel frattempo avevo un'altra riunione Io ho paura di sapere come va a fine La scadenza poi era il martedì E appunto l'ho mandata Solo con un sacco di stress Perché appunto Avere il fine settimana libero Mi ha portato ad avere un sacco di paranoia Sul, eh, l'ho fatta male Questa scena animata Perché anche se l'hanno chiesta a Raf Avevo un sacco di tempo Potevo lavorarci un po' di più Un pochino più di attenzione Quindi diciamo L'aver avuto più Cioè, dimmi se ho capito bene L'aver avuto più tempo È stato un problema? Sì, perché Non c'era la scusante Della abbiamo avuto un giorno e mezzo Per fare l'animazione Raf Di due scene E Ladove anche nella prima mail C'era scritto Se non riuscite a fare La revisione dello storyboard Più Tutte e due le scene animate Potete farne anche solo una scelta So che Tutti quei giorni Ormai Farle tutte e due Era praticamente un obbligo Io l'ho vista così Allora Domanda da un milione di dollari Scusa Vampire Poi te lascio Dopo tutto questo overthinking Dopo tutto questo overthinking Sei soddisfatta dell'opera No vabbè Le risponderai per forza no Sinceramente Sei soddisfatta del tuo operato No Allora per la parte nuova Però la revisione dello storyboard Che non ho mai fatto Posso dire abbastanza Sì Per le scene rough Che orrore Ma perché per le scene rough Orrore Perché era fuori Dalla tua comfort zone Perché Ma un po' anche Ho fatto i ragionamenti C'è più che altro Ancora problemi A fare Girare la testa Cioè tipo Dal frontale Passare al profilo Passando per i tre quarti Poi il personaggio Non è che non si prestava Però Avercelo così Di putto in bianco Senza averlo disegnato Un po' di volte All'ini Prima d'ora Era un po' difficile Complicato E poi Con Vabbè Questo lo posso dire Con la scusa E poi Saranno animati in cut out Quindi Il rough Lo posso anche fare Col personaggio Non esattamente a modello Solo che è venuta Una schifezza Almeno visiva Abberrante Ok quindi Vabbè Cioè nel senso Sicuramente Cioè no sicuramente Però penso che Fosse Questo rough Un campo In cui eri meno Allenata Diciamo Saranno mesi Che non faccio Un'animazione rough Tra Appunto Il quarto video musicale Dove era tutto Con i modellini 3D Da farci poi Rotoscopio E fare le nuvole Saranno mesi Che non faccio Una serie animazione Rappunto Eh cioè Nel senso C'è C'è Che Cioè Non c'è da Abbattersi Ovviamente Però c'è Sta che Averci la consapevolezza Dell'allenamento In meno E quindi Però Oh L'importante Come si dice È avercela messa tutta O sbaglio No Vabbè Io dico che sì Così Lo concludiamo Siamo messa tutta Non portare il pane A casa Purtroppo Ma Scusa una cosa Quando ce l'avrai Questi Ce l'ho detto Al più presto Saranno revisionati Dalla regista Che però appunto È La grande assente Di questa storiella E poi adesso Cioè domani è festa Non so se fanno il ponte Quindi In teoria Ma so Stranieri O so italiani Ah italiani E allora domani Dovrebbero farlo Oh c'è Taxo Buonasera Dai buttati dentro Taxo Ehm Allora Io scusate Un attimo Scrivo Questa cosina Albero in studio Che non si Cioè Tutti i colori Che scelgo Non si vede assolutamente nulla Vabbè ce lo teniamo così Allora io Aspettate Mi rollo questa sigaretta E inizierei a prendere l'albero Perché Questa sera Incredibile tema Della serata È il Natale Quindi Sotto con le domande Incredibile tema È un tema che non ricorre Incredibile Mamma mia Incredibile Non ricorre mai Nell'anno Questa cosa Novità assoluta Novità assoluta Esatto Ehm Io rido Ehm Vampire Però so che mi stai prendendo per il culo Però la prendo sportivamente No no Non è per te Non è per te Ma proprio perché No la prendo sportivamente Lo sai perché Perché essenzialmente Cioè Davvero Tanti No Tu Tu sicuramente no Però tanti davvero la prendono come Questo Natale Quel prossimo Natale Novità Cose nuove Cioè Stai facendo l'albero Come tutti i santi anni Quindi Che cazzo Di meravigli Ma è in divenire Lo spirito dell'essere umano E il divenire Quindi È sempre diverso Dall'anno precedente Non si entra mai due volte Nello stesso fiume No Non si è No Non era così Era Cioè Non si è Eh sì 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 In realtà penso che è anche così Cioè Non si entra mai due volte Nello stesso modo Nel fiume Vabbè Come cazzo era Però lo sapete No no Sì 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 Perché il fiume è diverso Noi siamo diversi Ma il Natale è sempre quello Tanto per intenderla Si scalda sempre la stessa minestra Quindi Io intanto Sono contenta Di festeggiare Forse il mio quarto Capuccia Facciamo terzo anno Senza dobi di Natale in casa Sì Allora aspetta nera Che devo farti uscire dal gruppo Ok Va bene Cioè tu sei un grig C'era Nera Nera Guarda io sto uguale Quindi c'è La penso Sono un infedele E me ne vanto pure Quindi Allora Mentre io vado a prenderla L'albero Voi mi dite Perché odiate il Natale Tutti gli altri Che vogliono entrare sul Discord Siete benvenuti No intanto Facciamo Come si dice Vi faccio flagellare In pubblica piazza Adesso Dovete avere il coraggio Di dire Perché Cioè voi magari potete mentire Ovviamente Però Come fa bene Tempo buttato in meno Taxo che fai Dai la corda Allora Taxo la voglio qui Per sapere perché Il Natale Le fa schifo Ovviamente Se sono storie tristi Della vostra vita Inventate una scusa Io non ho problemi A dirlo Cioè Nel senso Il problema Principale per me È stato che Ti sento eh Non ho avuto Questa La fortuna Che magari Hanno tante persone Con la parentela Principalmente Cioè La parentela A casa È un po' Un Come dire Un tabù Soprattutto Anni in cui I tuoi parenti Ti fanno sembrare Sempre un fallito Hanno segnato Più che Un trauma Eh sì È quello che È quello che Mi ha fatto Andare in bestia Il Natale Beh Anziché Un ritrovo Familiare Un ritrovo Bucia Però anche te Se vuoi entra Anziché Un ritrovo familiare Un ritrovo familiare Per schernire Sì sì Io ho avuto Io ho fatto sempre Non so se conoscete Il film famoso Amore tossico Io invece Natale tossico Cioè Prende dove Si Si vomitava Il veleno In famiglia Quindi Non ho mai avuto Un Natale felice Penso E quindi Non Non ha segnato Poi Soprattutto Ho fatto Per un Cioè Più che altro Da quando Ho fatto Per una persona Un Un Albetto Da quattro pagine Da anziché In una rivista Sul Natale Dove ho approfondito Di più Perché magari A me Appunto Non mi è mai interessato Niente Del Natale Dove poi Ho approfondito Di più Vedendo Che La costruzione Diciamo Fatta Dall'uomo Dall'uomo Comune Del Natale Del significato Che prende Diverso Da quello Che dovremmo Festeggiare Mi è presa Prende Ancora più La detestazione La detestazione Per questa festa Io mi chiedo A Skyrim Generalmente Nel Natale Ma guarda Io mi sento Sempre Ipocrita Fa questi discorsi Ma più che ipocrita In realtà Del non Sapermi Immedesimare Nell'altro Però Mi piace Pensare Che Una volta Raggiunta Passata Nel termine La vita adulta Si è un po' Più padroni Delle proprie Dinamiche Di vita E dei Punti di vista In merito A cose Però Mi rendo conto Che Essere Cresciuti Con l'odio Verso il Natale Non Crea lo stimolo Per cambiare Per cambiare idea Su di esso Perché fondamentalmente Ma guarda Più che odio Nel senso Disprezzo Odio Non odio Non odio Disprezzo Che è peggio Forse L'odio Lo riservo Le persone A quelle che Prende Mi fanno del male E' proprio Disprezzo Perché Poi Quando sei grande Ti accorgi Che Prende Una festa Piuttosto Molto costruita E non Magari Sulla tradizione Italica Che noi Mi dispiace dirlo Siamo un branco De stronzi Perché nel corso Della 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 tradizione Italica L'abbiamo sempre Mandata a puttane Per inseguire La convenienza Perché noi Avevamo il sol Invictus Che era Secondo me Una bella festa Certo Un po' più Ose Rispetto a Al Natale Classico Però era bello Insomma Molto Molto più Interessante Come cosa Poi Punti di vista Ho capito Adesso Facciamo rispondere Anche a Nera Allora Buonasera Groguci Dice Il Natale È un ottimo momento Per traumatizzare La propria famiglia Questo mi rende Questo mi rende Ogni anno Un sacco giuiosa Ma in che senso Travatizzare La propria famiglia Ci spieghi Ci spieghi Invece la signorina Guara Non è d'accordo Su cosa Su quello Che stavo Dicendo Esplichi Allora io No con l'albero Lo stiamo per montare Ci siamo Signorina Nera Allora Ci dica il perché Visto che il discorso È iniziato da questo Sì Non mi piace Adobbare casa Perché è solo Una rottura di scatola Perché stai lì Un po' come Non lo so Ok Non mi viene Di mettere un esempio Al momento Però Cioè Devi stare lì Ad abbellire casa Prima di tutto A togliere Le cose A recuperarle Dai garage Dalle cantine Tutte impolverate E poi addobbare casa Che Solo Appunto Sposta quello Sposta quell'altro Per poi chi Che magari Non hai nemmeno Ospiti Ti può capitare Di non avere Neanche ospiti A casa Concordo Vinamente Eh ma serve Per il nostro Piccolo Poi arrivare a febbraio Ad avere ancora L'albero lì Mezzo alle scatole Giusto perché Arrivano le Pulizie di primavera Inizia a smottare Un po' di roba Allora L'albero Si lascia Fino ad agosto Che canale vocale Siete Siamo su Antibail Antibail Siamo Attenzione Simone Buonasera Ciao 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 ragazzi Benvenuti Nel cantiero Studio Studio Eh merda Scusami Dovevo mutarmi Scudendo dirlo No 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 Le puoi dire Avertamente Queste cose Tanto Il punto Escavativo Sei mazzizza In chat Brava Noko Parla chiaro Si si Non dici nulla In realtà Però dai No 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 Quando aprivo Quando Fa un po' Ah Valore Adesso Perché appunto Escavativo Sei mazzizza È molto diretto Come Di solito Dici Sono stronzati Quindi ci sta Perchè non leggo Le cose Le scritte Allora Dovresti riuscire A trovarci Ecco Bucefalo Il maestro Eccoci qua Possiamo iniziare A fare l'albero Allora Eccolo La parte importante Dai Mettilo dentro Il maestro Eccolo qua Venga Abbiamo la doppia webcam Guardi Allora L'albero Verrà fatto Nice E qui C'è il maestro Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao Il maestro come sta Maestro Come sta il maestro Come sta Si segga maestro Io intanto Srotolo l'albero Venga qua Venga qua Questo è un doppio senso Quello Srotolo l'albero Si Non tiro fuori Dalla scatola Eh ma E' arrivato io Allora Fermi tutti Un attimo Leggo questa cosa E poi Si segga pure Maestro Allora Secondo me Si è cresciuto Con un'idea di Natale Che non coincide con la realtà Quando diventi più grande Cerchi di passarlo Con le persone a cui vuoi bene E non per forza La tua famiglia Quello che credo È che da quando Ho iniziato a passare il Natale Non più con le persone Con cui si passa generalmente Ma con le persone Con cui stai bene Ho iniziato a vivere meglio Questo periodo dell'anno Sono molto d'accordo Con questo Ma se Solitamente Evidentemente Io da piccino Stavo bene con la mia famiglia Si è creato Questo ideale Del Natale In famiglia Che si sta bene Poi mano a mano Se vedi che con la tua famiglia Non ti sta più bene Viri Verso le cose Però io Sono cresciuto In una piccola bolla Di fake Rapporti familiari E quindi eravamo tutti felici Eh Vabbè Non per forza fake Eh Ah ma eh Sì Perché poi quando cresci Vedi che è fake Beh Comunque sono d'accordo Alla fine L'importante non è Come lo fai Ma con chi lo fai Sei mazzizza pronto a raccontare Il perché Gli piace il Natale Non mi interessa In realtà sono molto indiferente Su molte cose Tra cui il Natale Perché lo vedo Un giorno come un altro Per me il Natale Può essere qualsiasi giorno Un giorno in cui Si fanno dei regali O si sta bene con qualcuno O poi è il Natale No Non è la stessa cosa Adesso ce lo dice anche il maestro Che cosa ne pensa Però si È una Cioè nel senso È la sua definizione Il Natale Non poteva essere differente Signor Seva Puntuale Concisa Consapevole Matura Vabbè Non c'è bisogno di farmi Un po' del culo Snisciato Però No 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 Eh Allora no Io direi Maestro Sul Natale Anzitutto come sto Come sto Come sto Benissimo No Il Natale per me in realtà È Un giorno Tutt'altro che Religioso O Come dire Che ridà le festività normali Perché Ho avuto la grande fortuna Di avere un padre nato A Natale Quindi 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 per me Il Natale È la festa di mio babbo Molto semplicemente Mio padre è nato Il 25 Di dicembre Del 57 E quindi Era un modo Per risentire I parenti Per stare in famiglia Anche in maniera Non religiosa Mio padre Non è un grande amante Nella religione Per me Semplicemente Perché come nel caso Del buon Galdiero Del nostro carissimo Maest Vengo dal sud E quindi per me È il luogo D'incontro familiare Dove Come Seba Dove si Vive bene Mettiamo così Questo rapporto Poi ovvio Sì ci sta L'aspetto fake Che è inflazionato Poi dal fatto Che è una falsità costante La spinta A comprare Scemenze Eccetera Però per dirvi Io Sono più che felice Del fatto Che il Natale Molte volte Non erano regali Per me Perché Cresciuto Dalle Già verso L'adolescenza Verso i 12 anni Preferivo Molto semplicemente Fare il regalo A mio padre E A lei A un tesoro Vabbè Raga Che vuoi Maestamo tutto Eh sì Era Era quello Più che altro Era piacevole Perché era una cosa Molto Molto terrona Raga Nel senso Io stavo fomentato Perché o capitava Che tornassi in Sardegna Ed era la follia totale Perché ovviamente Rivedo i parenti Se mangiava bene Se stava Eh Al caldo Che si stai Dopo mi leggerai Ah sì 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 Mi saluta Grogu Dicendo Buonasera maestro La magica Nocomis Innamoratissima Con le mucci carine Anche la cara Saratros Eh Però Per dirvi Alla fine Che cos'era Giocare a carte Io Non lo so Forse sono vecchio dentro Però Per me era Letteralmente Entrare dentro Un Leacli E Si faceva quello Il Natale Era quello Sono d'accordo Io faccio un attimo Una cosina al volo La terronia La terronia Guardi maestro Se lei vuole No vabbè Adesso Se vuole Può srotolare Un pochino Lo srotoliamo Quella è la Quella si metta In webcam Vediamo se la Se la riprende Va bene È un giorno gioioso Oggi amici È un Gaglio Giorno Giorno Galbero in studio Galbero in studio Sì Le giocate a carte In famiglia Puntualmente Si scordavano le regole Magico Il canale Antibail Non me lo dà La prossima Bucevolo Prova a entrare Aspetta A parte che io Non Ma te non Perché ce l'hai bloccato Il canale Antibail Ce l'hai riservato Ecco perché Lo fa vedere Perché io non vedo Entra Entra in un canale A caso Invitalo Non te vedo Ah eccolo 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 Come faccio Invita al server No Creare invito Creare invito Te lo metti Aspetta T'ho cambiato ruolo Davide Prova un po' a vedere Se te lo fa vedere Adesso Non eri ancora Etichettato come Streamers Chiedovenia In other words Si sente la musica Natale Certo che ci vedono Allora guardi Faccio un attimo Una cosia Eccoci qua Allora Punto esclavativo In chat Maest Eccoci qua Pronti Pronti E invece lei Sai ma che cosa sta lavorando Questa sera Allora Allora Non so se vuoi Anche vedere Se vuoi condividere Per me o quale Se mi vuoi mandare il link OBS Ninja Si Non mi ricordo come si fa Ma lo devi dire Allora vai su Allora vai su Allora vai su OBS Ninja Fai remote screen share Allora Allora Volume troppo alto E non capisco qual è Poi piano più Alla basso Allora Ma no Non c'è punto esclavativo D'erro Ma non ci posso credere Vodo No Comunque Sara Aspetta Capisco un attimo Perché non ti fa vedere No te l'ho mandato Poi Ok Sei come streamer Sara Quindi dovrebbe Fartelo vedere Allora Inserisco Un attimo Maest Che inserisco Il buon Seba In live Sì Allora Dov'è che me l'hai mandato Qua sulla chat Vediamo Ok Inserisco Inserisco Ok Come stai Bucefalo Bene Dai Che ci racconti di bello Ah no Adesso la domanda per te Che cosa ne pensi Del Natale Ah cacke Pensavo Che avrei Che cambiato Settore Diciamo No Hai scampato La Domandola Prima sto ascoltando La La storia di Yuri, diciamo che mi sono abbastanza ritrovato però adesso da quando convivo con Patrice, diciamo che il Natale è diventato andare lì a mangiare e dormire perché metti due giorni e lì a fare un po' trovare una sorta di stallo temporale dove si fanno le cose che si fanno sempre ogni anno e ho incominciato a falle a 28 anni e a 42 mi ritrovo a rifalle è un po' un loop strano però sostanzialmente è bello mi trovo in famiglia diciamo che la mia situazione a famiglia è un pochettino combustolate è un po' così però siamo tutti un po' sparsi per per il globo io sono restato in Sardegna mio fratello si trova nel Regno Unito e mia sorella è a Canguni in Messico quindi siamo un po' triforcati diciamo così è abbastanza e quindi mi scusi Davide il mio carissimo maestro sardo che le dicevo che prima o poi vi sareste dovuti conoscere dice Sardegna dove? è la provincia di Oristano Terralba Aristaisi bellissimo Aristaisi esatto cominciano a parlare italiano per favore è partito il maiore mo che sta parlando la mia lingua lui oh che bello di dove sei? mio babbo è di Bida Ramosa di Vallermosa ah ok è lontano un po' è lontanuccio però ciao Daxo ho apprezzato vari posti della zona di Oristanese che mi piacciono molto e noi sono rimasto stregato ok Oristei no Oristei no no di Steinzi è al limite ditelo bene sì sì allora oddio io l'avevo sentita nella forma Aristanis scritta no? Aristanis ah ok ok però a me influisce il Casteldaio a me influisce comunque il Casteldaio oppure se veniamo considerati maurettini perché stiamo ai confini con incredibili questi termini scusate l'abbiamo finito l'argomento Sardegna non vi preoccupate no 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 allora praticamente ha detto Casteldaio che vuol dire di Cagliari sì traduco perché altrimenti se gli dici Casteldu che è Castello e poi gli dici che Casteldu in realtà è a Cagliari ciao eh sì buongiorno proprio nel senso non Sardegnaio non possono capire che è un posto e che Casteldu vuol dire Castello il Sardegnaio è un po' scioglilingua abbastanza Casteldu ci arrivo ancora sì Casteldu è l'unica cosa comprensibile Casteldu che è Castello che vuol dire Cagliari però capisci ma però tu sei un pochettino Yuri se hai avuto conoscenze giusto? eh sì c'ho il bisnonno che era sardo ah ok vedi 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 bisnonno siamo in famiglia morto negli anni 70 che cazzo c'è eh te te non c'eri giustamente ancora non ero neanche in pensiero ok io dovrei aver settato tutto mi faccio scrivere se è pazizia sopra se è pazizia allora devo anche cambiare il titolo siamo diventati tantissimi ma Tazzo non lo sentiamo per quale motivazione? eh perché stavate parlando mica mi fanno sopra mica sono uno schiacciasassi cioè aspetto che finita il discorso dopo entro inizio a sparare le stronzate più stronzate che gli stronzi potrebbero stronzare allora detaxo VFX bucefalo 80 e ci siamo aggiornati allora signor signor Tazzo la domanda di Rito io so che lei se ne è preparata mi dica mi dica mi faccia la domanda mi faccia la domanda sono qui a posto era quella la domanda esatto qual era qual era l'ipname la domanda capire 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 la domanda è vada 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 ma lei la sa già la domanda non me la faccio la domanda è perché detaxo VFX è un grande amante del Natale allora intanto grande amante del Natale lo dirai a qualcun altro no e fu così che tutti odiano il Natale no allora io non è che lo odio ma è completamente indifferente cioè mi va bene perché sto a casa dal lavoro però no allora cazzo da parte è Natale carino perché si fanno le lasagne la parte è quello generalmente si simpatico forzare obbligatoriamente delle persone a fare dei regali nei confronti di altre persone insieme ad altre persone che devono fare altri regali ad altre persone intrasando ogni singolo centro commerciale impedendo il passaggio a qualunque essere che vivente si è divertente ma quanto siete beceri veramente ma che rottura dei coglioni di sicuro non si possono mica fare i regali durante il resto dell'anno però è senso fare che c'è la neve anzi no è vero da un po' di anni che non la vediamo più che c'è il clima natalizio ah no perché imprico sempre le divinità quindi non c'è più quindi è abbastanza useless è più bello non fare l'agosto che un anno tutti i cringe qua dice bene Saretta punto scavativo Saretta è molto meglio Halloween comunque è vero è vero è vero c'è la magia degli spiriti delle cose bello cioè io riesco a fare un disegno scusate ed è riesco a fare un disegno su Halloween infatti l'ho fatto anche in live ma non riesco a fare un cacchio sul Natale niente a meno che faccio un babbo Natale molto cattivo e quello che sto facendo fratello non mi spoilerare aspettate che il signor Gianmarco ci dice è Halloween è Halloween tendisi parli in italiano però che solo bucefalo è scusate che Halloween è Halloween che lui bucefalo carissimo da Oristano c'ha i sani medas i spani cedas cioè ci stanno le tradizioni sarde l'Halloween come lo chiamano i continentali sardo maestro pensi e si esprima in italiano per favore noi abbiamo delle tradizioni molto più potenti in ambito di queste cose il carnevale almeno per quanto riguarda l'aspetto sardo Halloween è potente perché è stato commercializzato ma ci sono delle festività che sono molto più cruente a modo loro e piacevoli sì 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 infatti gli abbiamo parlato ampiamente sia qua in casa che anche con con Iuri io ho disegnato sicuramente tu lo conosci Maria Puntavolo traduco per i non sardi Maria Punteruolo che sarebbe questo spirito di Maria Punteruolo sì sembra una bestia no no fate il conto che in Sardegna la maggior parte delle persone si chiamano Maria quindi Sara te lo fa vedere il canale vocale fa un po' sapere se no entra su uno a caso ti tiro su io ok allora mi metto anche a fa un po' l'albero adesso buonasera lupo aspettate che bisogna aggiornare però in differita male sì forse Iuri no non è Iuri cosa ho fatto che è che stava ridendo così tanto ero io che stava piangendo tra l'altro io ho tante risate c'è questa qui che è la risata che ok mi fa ridere punto stop poi c'è la risata pazzasca guarda che diventa una teiera no bollitore ho sbagliato dicevo a lei sareta ok quella bollitore è iconica quella bollitore fischi eh sì quando è pronto ottimo però se la sta distruggendo da sola la gola mi scusi tazzo come è quella di nera scusate non la faccio adesso anche perché non la sopra raccomando però c'è una risata che sembra una foca no è giunto il momento di scoprire la prima o poi è una sfida ma perché non siamo simpatici perché sennò avrebbe riso nera facciamo ridere è perché lei è così tanto prudita emotivamente a parlare è proprio è che si trattiene perché dice eh no è meglio e non so come continuare la frase quindi andate a fare ancora tutti soprattutto Paco che non c'è ma infatti dove è Paco andate a prelevarlo Paco Paco mi sa che sta lavorando mi sa che sono torno di notte eh sì raga ha pure ha pure passata una settimana non tanto bella non dico altro sì sì a parte che in live da me l'ha detto però sì sì preferisco che lo dice lui preferisco che lo dice lui cioè mi ha fatto piacere che ieri è passato tranquillamente in live sul discord siamo qui per lui eccoci qua mi sentite? sì la sentiamo signorina non la vediamo non la sentiamo eh la mia connessione non mi consente troppo stasera perché purtroppo blocca discord quella dello studentato cioè io non posso fare un cavolo con la rete dello studentato guarda l'atto positivo ma chi è questa persona scusate si presenti signorina Guara ehm sono lupo sono lupo sono lupo se non conosci lupo non sei della gang mi so vabbè prova a tirare la cam anche se non ce la faccio probabilmente test prova allora attenzione abbiamo i cubettini che cigano come le mie no eccessivo da parte tua però no ma sei come due settimane che spiego di fammi mettere la corrente nella casa che sto pagando non ce la faccio e quindi sono incazzato no 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 non avrai la corrente mi serve per vivere no perché dare la corrente a te è il male oh ma pistacchione punto esclamativo dal palio in chat benvenuto pistacchione e più forte per me il pistacchio è più forte abbiamo anche pistacchione io non vi per nessuno di voi nessuno tu hai attivato la cam buce no allora non ci vedi e non verrà voi c'è vero delle retelline vero tutti il gardiero nera adesso ciao ciao ecco la cam dell'anni settanta oh sì pastellata eh prima o poi me la comprerò una cam recente manca solamente il simbolo in orec delle videocamere la data no ma a me io pensavo più per l'outfit che per maestro si mette guarda ne ho una meglio ne ho una meglio un orecchino per me non si tiene proviamo è bella questa bella questa direttamente dalla videocamera di sorveglianza 001 esatto anche lei si è messa anche lei si è messa a sfondo rosso tipo eclissi giusto come giusto che sia berzer perché è oppio vabbè è caldero dai ti prego il unico che ha pensato a profondo rosso sono io ma neanche te da saperlo dai c'è una prima volta per tutto seba dai il primo po lo reggerà beh quello è il problema non lo farà male bisogna far leggere berserk e caldero no no ancora no ho visto i film ho visto i film ho visto i film quel riazzuntino eh riazzunto venga maestro venga a mettere una pallina vai vediamo palle ecco tutto palle e fu e fu così che lo bannano venga a mettere una pallina vedete oh bravissima nera abbiamo benvenuto permesso che faccio spogli perché bisogna bere allora sei tutto caldero no non non credo che i video perché bisogna bere è una cosa perché bisogna restare idratati e perché bisogna restare idratati perché sennò dopo le risate diventano come quelle di taxo le risate disidratate simil asfisia lei sta dicendo che io sono disidratato sì ma in realtà no perché conosce nera quindi nera non permetterà che lei si disidrati effettivamente è vero un giorno stavo parlando di non mi ricordo hai bevuto regolino eccolo eccolo ma parte altre cose parte il big bang attacchi eh no perché ho mal di cuore altrimenti devo già fatto dannazione madonna basta questo mal di cuore è un mese che c'è il mal di cuore tra un comunque la corrego ma tutti in realtà non è il big bang attack ma è il big bang attaccio ok questo è evitabile lo posso dire che è evitabile da solo poi chi ce l'ha cacciata la chiamata scusate se ti parla disidrata tax o voi e vabbè tax o b bravo maestro che poi è totalmente gratuita perché nessuno ha pagato quei 800 cosi per la barzelletta quindi è per questo che le facciamo riscattare non lo avremmo mai fatto perché io penso al bene comune metti caso che c'è qualcuno che non può permettersi la barzelletta ma vorrebbe sentire la barzelletta ed ecco lì che entro in gioco io a sparare scorsate la mattina che persona altruitta eh grazie grazie bravissima no pace non dica queste cose lei sta benissimo tutto se stesso questo è prossimo va bene almeno lo so guarda tazzo lo faccio per te ecco sti mille quindi vogliamo una barzelletta allora no no cosa dici no ma è per quella che ha appena è appena dato ma generalmente le barzellette vanno fatte dopo gli riscattati quindi hai riscattato perciò io adesso lo dico alla barzelletta cosa dice un maiale a un intervistatore avete domande da porci no da porci giustamente lo sapevo maiale porci ciao pippo io gli tolgo il saluto va di più questo si che è autismo oh no boni 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 qui c'è solo un gioco però l'ha raccontata bene bisogna dare vabbè una frase che sbagliava questa ho capito io cercavo di no no è difendibile attenzione seba attenzione seba eccoci qua io ho una parola ecco domanda Galliero quando fai eccoci qua perché puoi imitare Giorgione chi è Giorgione? no maestro no non conoscete Giorgione maestro no ma certo che lo conoscete il cuoco umbro che fa i programmi di cucina tu Alice si conosco a specchi Giorgione certo che conosce certo lo amo io amo quell'uomo io non lo conosco in realtà lo faccio perché sono di Giorgione dei meme di Giorgione maestro per forza va bene lo faremo nella serata cabbi oh la serata cabbi per avere il maestro la serata cabbi quella che aspettiamo tutti si si potrebbe fare quasi una reaction eh ma lo faccio il venerdì sera il venerdì sera che è il venerdì reaction e poi si rimandate che succede ho creato l'apposita casella chat con scritto venerdì reaction oh figo che è stato io venerdì dovrei in teoria sconfiggere le norme in God of War poi e chi è il God of War poi non lo so ti risparmi la serata di Caldero eh che sfiga eh scusa che sfiga io lo dire non ho sbagliato ho sentito male o ho sentito qualcuno che ha detto chi è il God of War no nel senso io sono il God of War ha detto devo sconfiggere il God of War e chi è il God of War se lo devi sconfiggere cioè non è Kratos no no a parte non è che io devo sconfiggere eh ragazzi no spoiler cioè se sapete qualunque cosa non lo spoiler perché io mi devo ancora giocare quello del 2018 è il God of War ho buttato fuori alla chiamata via Kratos viene battuto da Strasos che a sua volta viene battuto da da Frobitos che è il famoso gioco Kratos Frobitos e Sassos oddio 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 è consentito è consentito fumarsi una sigaretta no no viene la polizia del politicamente corretto affrontamento è consentito impiccarsi allora questa sera è consentito chiedo per un amico no raga io sto per fare una battutaccia non è falla 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 c'è stato il taxi pieno a moda non è consentito non è consentito impiccarsi dipende di se 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 ok ottimo no mi sa che non la posso dire ci bannano vabbè scrivemela in chat e poi ti dico se la puoi dire la parola era amogus amogus bello amogus secondo me non so più natalizie queste sì vogliamo mettere un po' di ella l'ha fatto l'album natalizio ella sì qui sta ok te l'hai inviata gallo quello con eccolo ringing christmas ma allora cioè nel senso io credo si possa associarsi da quello che si dice però non è consentito impiccarsi però è consentito morire di overdose mi dissocio totalmente sì ma in merito a che cos'era questa cosa politicamente scorretta alla alle battute di tax ah perfetto nooo vabbè dice è comunque un suicidio post tax quindi ci dissociiamo da questi gesti eh sì sì è solo un gioco ci dissociiamo in skyrim raga io mi sa che tra un po' mi faccio una tazza di latte di riso con i cereali la colazione dei cantioni per caso che sono le 11 4 è giusto eh vabbè sarebbe la terza in un giorno 11 di sera 11 di mattino non importa sempre 11 sono va bene è giusto tanto che lo puoi bere bevi latte buono tanto che te lo puoi scaldare fa che almeno tu hai la corrente però dai tax su questa questa sfigaggine però finché non me l'attacco lo utilizzerò come argomento di auto presa per il culo e mi diverte tantissimo come cosa no fai bene io io cazzeggio amico mio quindi puoi dire quello che vuoi quello che vuoi meglio che una pellina sicuro questo scusate questa questa era la live per costruire l'albero eccolo è già stato costruito possiamo chiudere no chiedevo chiedevo non era l'albero senza l'albero senza lucine non è un albero no c'è la luce sta nel cuore dagli foto nel cuore di fuoco fiamme fiamme fuoco fiamme distruzione devastazione fuoco fiamme morti distruzione anche rumorista ormai tazzo guardatelo pieno è da TSO ma quanto è morning ma sai che si potrebbe prendere fuoco si noi non tazzo e dovreste venire un po' di nice mi piace sta roba guarda quanto è fresco in realtà sembra una merda però vabbè basta sta sedia tipo purtroppo non vedo le vostre camere bravo bravo maestro faccio una cosa vado e torno sembra che ha il tronco tipo illuminato è bellissimo no vabbè allora capiamo un attimo ma che succede? chi è? e mo ritorna a buce state il tempo mo ritorna a bucefalo sembrava un'altra cosa sembrava no lui non ritornerà mai no non ritorna il copo della mia vita non può tornare Sara Tro hai ragione un albero senza luce non è un albero è un albero senza buce senza buce con la B con la B con la B buce buce no maestro maestro allora no no hai capito l'importanza un po' di vento un po' di vento un po' di vento il richiamo di predappio senza bucio il richiamo di predappio dietro l'acqua andiamo quindi gita gita predappio dai vediamo se c'ho delle luci dai cosa ci ricacci dall'armadio c'ho lo scatolone fabbricone ah quindi il pasqualone eh il pasqualone lo sapete che una volta a me me l'hanno regalato il pasqualone no non mi hanno regalato il pasqualone mi hanno regalato una volta c'era tipo quella cosa tipo il pasqualone però a forma di casetta non mi ricordo come si chiama casettone un'infanzia difficile si chiama in quel senso maestro maestro o casettone o casa chiusa casa casa pound no 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 casa pasqua è un partito è un partito no no caccapugno casa pasqua lo sapete che io sono stata reclutata da casa pound e la tua risposta è stata facettane avevo 15 anni e da scolipiceno facevano i reclutamenti li fanno tuttora sì sì praticamente ci stava praticamente lo sciopero studentesco e era guidato da casa pound facendolo che era politico e praticamente niente ci invitarono a bere una birra o qualcosa a fare aperitivo insomma e ci ristrurarono tutte le loro idee favolose che io non ricordo neanche che cavolo mi dissero perché io stavo lì tipo amica ce ne andiamo perché stavo con una mia amica ce ne andiamo da qua non mi sento molto a mio agio però però esatto e lo fa e so che lo fanno ancora credo l'unico modo mi sa che non è una novità buona te fa andare subito in bagno kiki und kaki in kiki und kaka land proprio è il memino del momento ragazzi cercate cercate kiki und kaki e gli opossumini dello sfintere oggi oggi maestro un fire maestro un fire grazie sono sempre felice di essere accostato a giordano bruno da studente di filosofia via ma a bruno giordano invece no eeeh no è tornato no è tornato eccolo l'albero in studio guardatelo amici aspetta che si è pesato tutto eccolo 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 si mettono sempre le palline avanti e zero dietro certo è un ottimo galbero in studio vabbè non è una battuta una battuta scusate ogni cosa diventa caldierosa esatto un albero senza luci è come un cesso senza stelle no ottimo io si chiede ti devo lasciare che almeno ti poso un pelettino la gola quindi noi ci sentiamo successivamente dal fatto in cui noi vedremo adesso vado io scriverei punto esclamativo taxo in chat è sempre è sempre ha guittato ha guittato questo esclamativo taxo ogni tanto inizia battute e esce dalla col discord prima di finirle eccoci eccoci ma così è come interrompere un orgasmo a metà si fa eh ma taxo è un orgasmo a metà stiamo parlando di colpi interrompibili nice per l'ultimo taxo e quindi niente amici a Natale quasi Natale e a Natale si può fare di più comunque a Natale puoi allora signorina non puoi fare mai bestemmiare lei ti odia a Natale no quello tutto l'anno no quello soprattutto a Natale il 25 dicembre in chiesa a bestemmiare appassionatamente poi se hai voglia si va all'antinatale dei profilax e via magico profilax pucefalo buttali fuori dalla nocca ora no da solo da solo eccoci qua pronti comunque il discorso di prima era molto interessante Natale è quello del Natale che è una festa molto stereotipata eh sì questo è vero aveva un discorso scontato però eh che discorso scontato ma metà umanità manco lo sa cosa che il Natale serve solo per regalarsi e che è totalmente studiato da 100 anni in maniera commerciale ma non lo sa da Santa Claudio ovviamente no sono tutti i pezzi regalo perché il fatto dei regali viene dalla mitologia norrena ma in realtà 100 anni cioè si è incominciato a manifestare in Italia negli anni 60 perché negli anni 50 si regalava durante l'epifania sì è vero è lo sbaglio sì era più una cosa da epifania fine festa si facevano i regali si mangiava tanto questo sì sì perché in Italia fortunatamente almeno un pochino del sol Invictus era rimasto un pochino un pochino almeno non si scopava più però si mangiava Daxo sono un orgasmo a metà perché sono alto mezzo uomo no lei potrebbe essere un orgasmo completo non è perché è mezzo uomo è un orgasmo mucolidico lei vuole essere sta dicendo che i bassi non orgasmo la metà per caso Daxo nostro warning un po' di Sina un Vissina insomma fatto allora signor Seva ci illustra che cosa sta lavorando yes allora non vedeva l'ora sono prontissimo a parte che non sia nella sega quindi lo ingrandisco lo ingrandisco no ma non è per quello eccoci sto preparando delle illustrazioni di moda principalmente quindi ho fatto la versione quella la versione che ho sognato fatta di di sangue il vestito quello rosso non so l'avete visto voi aspetta che lo prendo da qualche parte rosso dov'è questo qua è molto bello sì e queste altre due che invece sono un po' più street art street art street e basta mi sa sempre per delle robe di moda che devo mandare a dei brand però aspetta ti sei aperta su un'altra finestra perché non è che non si vede aspetta su photoshop è che non so cosa condividilo questa qua attenzione ci siamo persi il signor jambu 92 che figo bello ah no jambu jambu 92 tu hai la spera di tax bello questo l'ho visto allora su questo lavoro seba ho detto sto ragazzo c'ha talento vabbè grazie e solo per questo ok no ok lascia fare solo da questo vabbè oh scusa no no vabbè mi piace anche a me questo molto bello questo e niente sono per dei brand di moda in realtà perché ho un'amica che lavora in moda taxo comunque scusa seba ciao taxo buonanotte ciao taxo è un'amica che lavora in moda e mi ha detto che ha bisogno di illustratori che fanno appunto questa roba qua che sono illustrazioni di vestiti che fanno i designer per poi mostrare a altre aziende barra persone VIP importanti che puntano a vendere appunto questi vestiti quindi magari vuoi far vendere questo vestito a un VIP li fai vedere l'illustrazione così figa dicono oh cazzo me lo voglio prendere anch'io quando lo stylist tendenzialmente non sa disegnare quindi quindi un po' in realtà il designer è diverso il designer ti fa no no lo stylist quello che concepisce diciamo il no vabbè non è che non sa disegnare che lo stylist magari ti fa il modello con le le cusciture dove stanno fatte bene mentre un illustratore fa un po' se deve fare la era una domanda non era un'affermazione no più che altro è quello emotivo è da capire se questo lavoro viene prima della realizzazione o dopo la realizzazione questo viene dopo questo viene dopo quando i designer lo styler fanno il loro dovere di fare il vestito fatto bene ok quindi è tipo un è la copertina quella che renderlo un meta dress e quindi farlo figo e qua e là cioè è più figo perché appunto non sta più nella realtà tra virgolette esatto dove lo metteresti come vestito che tipo di utilizzi può avere e fai queste cose e niente quindi sto preparando per un portfoglio da mandare molto bello ciao Sara grazie che sei passata un bacione ciao Sara bellissimo questo shot su vostra mano sigaretto niente quindi sto preparando vestiti cazzo è tanta roba però non li so fare quindi vado avanti vabbè adesso vabbè non sono mai stato uno che fa vestiti vabbè esci un po' arrivato a zone comunque io ho visto un tipo su instagram che si era creato questo avatar ah no aspettate era molto più figo che come ve lo stavo per raccontare faceva fare spilate di vestiti a un avatar invisibile 3d se vedevano solo i vestiti che camminavano ho visto pure io l'ho visto pure io fighissimo no io non l'ho mai visto com'è sta roba bella tipo con gli ologrammi com'era che faceva no no ti immagini c'è un modello 3d di una persona vestita con modelli 3d cioè tutto in 3d era comunque l'ambiente però il modello era trasparente cioè non si vede invisibile no trasparente quindi sostanzialmente è solo il vestito che cammina esatto come se l'uomo l'uomo invisibile indossasse delle cose io c'ho c'ho un amico che lavora in suo campo fa delle cose pazzesche 3d sì lavora per per lavora in mezzo al metaverso comunque cioè lavora con delle cose 3d si è laureato è veramente veramente bravo veramente bravo e sta cosa dei vestiti l'avevo vista pure io veramente invece ci sta un tipo che è diventato super famoso perché prende dei degli oggetti oppure degli animali ok e li trasforma in personaggi in personaggi ok ah sì sì dico fissima poi mi piace da morire il suo tratto non ho capito prende dei personaggi e li trasforma in animali prende tipo un animale a caso a caso e da quello fa il character design della persona ho visto quei vestiti molto bravo a capire le vibes esatto tipo ci sta il dodo ciao pippo buona serata ciao bravo tipo ci sta il dodo che per il personaggio il fatto che il dodo abbia questo becco no strano gliel'abbia trasformato in pipa cioè il personaggio gli ha messo la pipa per richiamare il becco il becco esatto cioè geniale invece il signor vampire sta facendo un babbo natale armato fino ai denti eh sì una bella visione del natale proprio il natale che vorrei Christmas war praticamente guarda che bellino l'altro eh sì god of christmas momento di ho bestemmiato? no 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 non ho bestemmiato così ho bestemmiato il dio del natale quindi eh per vampire magari è una bestemmia che no che devo fare che devo fare disegnare ecco e infatti quello che sto facendo bravo devi disegnare imperativo sì 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 io e io e io e bucevolo abbiamo abbiamo queste cose non perdere tempo metti da disegnare disegni non direi alzo invece non ho detto stai zitto vampire altrimenti ti dicevo stai zitto vampire capito? l'hai mostrato in altre maniere però vabbè niente maltrattamenti su galliera su mi dissocio mi chiedevo la signorina nera con che cosa si sta intrattenendo clean up di una scena del terzo video oh con la cascata da la polizia dell'animazione grande lavoratrice sei l'unico galliero te lo dico cosa sono l'unico che non lo abbiamo fatto l'albero eh ma non è un lavoro penso cioè lo so pensavo non era bello no non lo so è un bellissimo albero di centimetri quant'è no adesso vi faccio la comparison con cosa la comparison la comparison la comparison per fare foto sull'ansport è una rossa quindi è più o meno un mezzo caldiero quell'albero che è un metro e un belico di caldiero ho capito un belico però considerando che il caldiero è alto quindi non è piccolo piccolo quanto sei alto caldiero quanto te un'ottanta no un'ottanta quattro aia è lungo è lungo due metri io io hai toto toto altezze toto altezze vai sparate le altezze degli altri giusto per no io un'ottanta come degli altri non sono secondo me se un'ottanta cinque ammazza non sono così alto quanto sembro nella realtà allora sotto altezza bucefalo 1 e 78 no 75 sono più basso quanto scommettei però probabilmente sarà alto quanto me allora il sardo maestro qua ci dice probabilmente sarà alto quanto me perché ovviamente tutti i sardi non è una cosa basica esatto nel senso sarà alto quanto me ti ha detto che non è 1 e 78 non è 1 e 74 sarei 1 e 70 come me che ne so bravo ecco un po' eh ma perché ci si capisce tra smettila allora stavate parlando solo voi due in sardo prima che cazzuola salue che cazzo è un altro sardo che bello che nel frattempo mi scrive gente sarda che vuole parlare con me dalla Germania ma in realtà vuole tornare a Cali e su via ogni volta stagia sarda una volta al giorno devo sentire il ricardino mio allora ma est può concedermi un filtro esatto possibilmente instagram un filtro si battuta cringe per farvi soffrire mi fa piacere questa cosa ma mancava morirete di cringe e io riderò sulle vostre tombe 100 mila ma un critico con tutta la commissione dell'inps no sta vendendo una piega malvagia una piaga scusate la signora lupo può permettersi di odiare il natale e io non posso godere dei risparmi dell'inps scusate qui non è solo la signora lupo che odia il natale io ho l'esclusiva qua ah raga grinciamo grinciamo tu sei nato troppo di me quindi stai calmo io dico quello che voglio hai capito dicevo l'altro giorno a Galdiero che io avevo una professoressa che sotto il periodo di natale arrivava e diceva bene ragazzi siamo arrivati sotto natale sapete cosa vuol dire che faremo più interrogazioni o verifiche del solito perché io odio il natale e voglio che lo odiate anche voi e noi sì sì ma perché lei ha perso il marito a causa di un incidente stradale a causa del ghiaccio e quindi il natale per lei è brutto un mento però chiettelo per te cavolo cioè non lo far passare di merda anche a noi solamente perché tu hai questa cosa cioè ok è sadismo accentuato lo spirito del natale è questo è questo è lo spirito del natale far soffrire i bambini non pensate che non si no e scusate i bambini bangladini purtroppo che fanno nelle fabbriche i nostri regalucci che cosa stanno non banni non banni non banni caldiero dai su no scusate scusate qui qui mi sa che è tutto un programma il passo della morte è labile insomma eh sì sono scomparse le signorine modelle che cosa è successo oddio oddio sto facendo dove sono le modelle ah ecco un piccolo trucco eh digitale incredibile eh digital magic david copper più digitale mago silvan mago silvan installa mint stasera pure io volevo disegnare però però eh mi sono ricordata che c'ho photoshop cioè photoshop mi ha ricordato ci sarebbero 364 euro da pagare quindi eh ma guardi che se la pagarlo eh a photoshop è su carta ci può anche craccare si paga si paga si paga sicuri eh sì 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 ma io l'ho pagato oggi paghiamo eh sì pagati paga sì sì ho pagato eh pagato è stato veloce a pagare ho pagato ho bonificato vabbè dai come il bus donna rachele ops sì eh sì no sì 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 Lei è il 40C Chi era Claretta Petracci che non mi ricordo? L'amante? No Era l'amante? Ok Non vissero a Dongo Ah tra l'altro meme totale della storia Come si doveva chiamare il posto dove Vennero catturati Dalla vita, dalla non vita Dongo 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 che sembra bongo Che ricorda Dong Perché l'hanno preso dritti in Lei è un po' bangladini Ma è questo Non dovete pensare per forza Che io stia facendo cose a te Ma Peruviano Ecco Io scredo Nell'ugaglianza Lotto per questo Adesso si chiama ugaglianza Esatto Maestro Sembra un po' missilistica Questa live Maestro Oggi ho litigato a morte con l'Inps No Frittante No Frittante Sì Parlami di queste cose Dimmi La chiamata quante ore è durata Ma siamo da maestro Con Asimienta Non so se è caduta la linea Mi hanno riattaccato in faccia Però credo che mi abbia riattaccato in faccia Perché è arrivato Nell'esatto momento in cui io Mi sarei riattaccata in faccia Quindi Allora Qual era il problema? Il problema è che io sto aspettando Il bonus psicologo E entro oggi Teoricamente Dovevamo uscire Gratatorie Ok Chiamo lei Chiamo l'Inps Mi risponde una tipa E mi dice Ma lei deve fare il pin telefonico Per parlare con noi Perché se no non può parlare Cioè non le possiamo dire niente Che vuol dire il pin telefonico? Eh E io gli ho detto Esatto Che vuol dire Eh deve andare sul sito E digitare pin telefonico E io gli ho detto Siccome il sito dell'Inps È tipo intrigatrice Che è super incasinato Sì ma quali passaggi devo fare? Eh Deve andare nel MyInps E poi cliccare pin telefonico Sì ma ci sono mille sezioni Quindi dice Che cavolo devo fare Eh me lo fanno apposta La vita mia Vabbè Al che Gli dico Vabbè Prendo sto pin telefonico Vi richiamo Prendo il pin Dopo un'ora A smazzare col sito Lo trovo Richiamo Mi risponde un tizio Mi dice Mi dia il suo codice fiscale Io gli dico Ma scusate Ma non me l'hanno chiesto Ah vabbè Me lo dia lo stesso Va bene Le do il mio codice fiscale Ah sei nata Di ottobre Anche io Ok Per quanto è avanti Questo Ce l'ha provato Ce l'ha provato Ha sentito Voce giovane Ha detto Vabbè va Una bella lingua In bocca Questa Ho già Rimedio Quindi dico Senta Ma mi serve una mano Per capire dove stanno Le gradatorie E io non lo so Ma scusi Lei l'ha detto Cioè vi giuro Raga Ma risposto Vabbè era con l'imps Ma che poesia E praticamente niente Praticamente mi ha detto Vabbè andiamo sul sito insieme E vediamo dove sta Dobbiamo andare su circolari Così comunque alla fine Non l'hanno messe le gradatorie Ma come? Cioè Oggi dovevano mettere gradatorie Eh Alla fine non l'hanno messe Mi dispiace E io tipo Ma quando le metteranno Tu 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 Vabbè Unlucky Unlucky Va bene Va bene Prossima live Annaliving IRL Annal No no Annaliving Ah Annal La versione non censurabile Annal Presto Impiegati Ims Come va L'ha detto maestro eh Annal Quindi Annal Ho detto No Unal Unaliving Annaliving Ha detto Annal Ha detto Annal Ha detto Annal Crei che clicco eh Clicco maestro Clip Clip adotto maestro Clip Stacca sera Stacca Esatto Ma invece Il signor Bucefalo Stasera sta lavorando A Blasphemy Bucefalo? Presidente? Presidente? Eh no Non può dire altro Mi sa No è stato Appeso No dai Est No perché ha macerata Appeso Si usa quando Uno fa una domanda E non gli viene Data risposta Un po' di Un'aperculata Da parte Dura No no Ma Ma ha lasciato appeso Signor Bucefalo Non ti dice solamente Non macerata No no Era per coprire Questa è esclusiva Era per coprire Il black human Per fare macerata Splaining Io lo sento che parla Che si illumina Mi tanto Signor Bucefalo Però non capisco se Non mi sa che o sta Ho andato un attimo Al bagno O sta tipo Eccolo Davidone No chiedevamo se stava Lavorando a Blasphemy Si si Abbiamo chiesto tre ore Per sentirsi Si si Grande lavoro Lavoriamo per voi Ragazzi Nella meccanica Di precisione No Presto arriverà Non mi preoccupate Si può si schierpa Carriero studio Però Era interessante Il discorso Che stava facendo L'altra sera Vampire Sul fatto che C'era un tocco orientale Sulle tavole De Salute Sulle tavole De Blasphemy E sarebbe curioso Anche Una colorazione Non me la so immaginata Un po' A tinte piatte No 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 Se può pure Fa un po' Un po' Più Corposa Le colorazioni Si 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 può fare Un po' Più volumetrica Guarda Un giorno vorrà Io so Sarò ben felice De colorargli Senza nulla Togliere Alle doti colorative Perché abbiamo visto Penso Mi pare che Abbia detto Che lo voleva fare Bianco e nero Lui Però Più drammatico Vero Davide Confermami un attimo Perché può essere Che dico Cazzate Ok Allora Sì sì Risposto che al dire No Anche prima Stavo rispondendo E Parlate poi Sopra Ma non si sente Scusi ma Quindi Niente Eccoci Eh sei offeso Dai però Non fate così ragazzi Io ve l'avevo detto Non Credo Dai Cioè Nel senso Eh oh beh così È inutile Seva che prima Dici quindi E poi E ne l'ho capito Vabbè Caratteria Io Mi scuso Con Tutte le persone Con cui Sembra Ci siano Atteggiamenti A maleducazione Però Non è Assolutamente Preventivata Come è Maleducazione Cioè Non Non è È puramente Casuale No no Non è neanche Tale Secondo me Ecco È puramente Casuale O causale Dipende Dalla No ma Vabbè Quindi Artista Preferito Da ascoltare Sotto Natale Non Mai Con Boblet Esatto Non potete Rispondere Boblet Vabbè La stiamo Ascoltando Nel caso mio E anche Mariah Carey Per favore Appunto Ma l'ha fatta una Avete mai sentito L'album natalizio Di Sia No Sia è quella Che ha fatto Scende lì I'm Unstoppable Sappiamo Chi è Sia Vabbè Lei si fa Cia cazzi suoi Che io sto Spiegando A chi non lo sa Perché se lei Lo sa Vabbè ma Si sa È famosissima Dai Qualcuno Di voi Non sapeva Chi era Sia Alza la mano Seba Per favore Grazie Nera Sia Adesso hai capito Chi è Nera Quella che ha fatto No I'm gonna swing From the chandelier Quella che sta Nera 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 la canzone che fa I'm unstoppable today Nera Ma le passano Non è che ha una cultura musicale Che era Senteno Zero No Lei non ascolta la musica Quindi non posso porre La domanda Che artista ascolta Sotto Natale Perché per lei Il Natale Non è Nulla più Valgono le musiche Dedicate al supermercato Non lo so No La sala d'attesa Davvero No Sotto di musica Nera Zero Ma C'è un po' particolare Tipo Musical Vari su YouTube Di proposizioni Di opere letterarie Soprattutto È la prima volta Per me che Trovo qualcuno Che non è un Che non ascolta Che non è degli artisti Magari Preferiti Qualcosa Però lei Ha dato una risposta Ben Ben Mirata Consapevole Che è addirittura E addirittura Non Che sarà un meme Però se posso chiedere Giusto per capire Ma musical Di ultima generazione Oppure anche Gershwin Cole Porter Penso a Porgy and Bass Ad esempio Guarda Che scrivenciato No scusi L'interruzione Prego 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 Quelli nominati Non li ho mai sentiti E Poi io sono Diciamo Già Nella selezione Vado Molto nel Ci sono gli animatic Su YouTube Di questa canzone Mi piacciono Mi piace la canzone Andiamo a vedere Se c'è Su YouTube La raccolta intera Mi ascolto Infatti Vi consiglio allora Dottorissima Cara maestra Nera Se vorrete Di ascoltarvi Il musical Appunto Con la dolcissima Ella Fitzgerald Di Targstrong Autoreferenziale Eh sì Di Porgy and Bass Questa storia Di questi due signori Che Lavorano dentro una casa Non Non la farò Sporca Ve lo prometto E Sono due Signori che vengono Come dire Da un contesto Molto difficile E accudiscono I figli Dei bianchi Mettiamola così Hai mostrato un termine Ma E quindi la coppia Non scopa Però è molto Ma Scusa Volevo capire La coppia Quindi non scopa No Non è È particolare Ma è È più poetica Ma non c'è La mangiunga più divertente Mamma mia Ma almeno c'è qualcuno Che tipo Che ne so Uno che Odia qualcosa E poi Ce lo finisce Stecchito Come succede A Natale No eh Può essere Può essere Può essere Può essere Vedremo Vai Comunque Dean Martin Da Natale A giugno Sì L'estate Si ascolta Qualcos'altro A ottobre Si riparte Con Dean Martin Sì Quindi non è Da Natale A giugno È Frank Sinatra È da ottobre A giugno Vai Dino 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 Essential È il più bel ricordo Di Natale Che avete Sì E' da spiazzare È andato Quando Ma sì È così È colpa Guarda Guarda la light Lavoro che sei Vado Sto facendo delle prove Perché volevo Una roba più pop art Allora È bello Ho visto Un problema Scusate Un po' faccio rispondere Al maestro Sul Il ricordo Più bello Natalizio Ho visto Questo sito Che adesso Non mi ricordo Come si chiama In cui Te ci carichi Un'immagine E Puoi inserire Artificialmente Su questa immagine Degli spot di luce Che penso Appunto Funzionino in base Al punto di bianco All'interno delle foto E te puoi decidere Stava facendo La cosa scontata Del Luce magenta Luce ciano Quello Che d'altri Di solito C'era un volto al centro Metteva il ciano a destra E il magenta a sinistra Però è molto figo Perché le potevi spostare Dove volevi tu All'interno dell'immagine E effettivamente Reagendo con i bianchi O con le luci Dell'immagine Sembrava aggiungere Funzionava bene Come Adesso vedo Se ve lo ritrovo Non ho Ben capito In realtà Cioè tu carichi Una foto su questo sito E puoi aggiungere Artificialmente All'interno della foto Dei segnalini Emanatori di luce Per cui reagiscono Con la luce All'interno della foto E tipo Se ti metti Una luce viola E' come se avessi Appunto Inserito all'interno Dell'immagine Una luce viola Che ti reagisce Con i punti luce All'interno della foto Cioè te crea Artificialmente E in tempo reale Spostandola come vuoi Questa Questa luce colorata Tra virgolette Ma ora Ve cerco Sì Fai un attimo a vedere Era difficile Non l'ho spiegato bene Non lo so Non lo conosco Quindi Magari l'hai spiegato bene Non capisco io Vediamo Sai che l'ho trovato Ragazzi All'interno studio Allora utilizziamo Un'immagine Qua Mo ve lo butto Ve lo butto in chat Eccoci qua Ve lo butto in chat Qua sul discord Cioè sulla chiamata nostra Raylight Si chiama Anzi Ve lo butto anche in chat Eccolo esatto Quello volevo spiegare L'anteprima Che sta sul messaggio Vediamo 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 un attimo Vediamo un attimo Una grandissima Mio fratello Quando aveva tre anni Andava a scartare C'è la sua casetta Di plastica Grossa 5 Bello Questo è il tuo ricordo Noco C'è questo bambino Che scarta un regalo Più grande di lui Bello Vediamo se riesco A farlo vedere un attimo Al volo in live L'ho chiuso Già no Boh vabbè Amen Si chiama Raylight Comunque Per amici che vedranno Il VOD 5 visualizzazioni E' molto interessante Per studiare un attimo La luce Quando fai Reba lo sta apprezzando Lo sto guardando Vediamo un po' Non lo conoscevo A me Mi sa che Mi è capitato Molto funzionale Io non so come fanno A farlo funzionare Così bene Non lo so Ma in realtà Dovrei provarlo Eh ma Caldiro Studio Ne savuna più del diavolo Download Vediamo Se ci fa pagare Per scaricare No Scaricata Questo ragazzino Androgino Si si però poi Te la fa scaricare Giustamente C'è una seruta Vediamo Vediamo proprietà Che grandezza Tipo 100 BPM No BPM Biglissimo Dettagli 96 DPI Vabbè 1920 Per 1280 Oh Buttalo via Come si dice Allora Non è un virus Ci fidiamo No no Coaprio Perché è molto bello Ti consiglio di provarlo Sul tuo ultimo Disegno Anche se Forse funziona Più sulle cose Realistiche Più che sulle tinte Di l'illustrazione Ecco diciamo Cioè no sulle tinte Sui passaggi di luce E ombre Più netti Non lo so Io lo sto provando Adesso con una foto È una figata Eh sì Sembra esserlo Sembra Fai lo vedere su In live No? Io qua non me lo fa fare Lo facciamo vedere in live? Tutte foto giganti Non me lo fa Allora vediamo Eccoci qua amici Questo è il nostro Programma Realite Alla distance Puoi settare un sacco Di cosine Ma questa funziona molto Perché credo Ci sia un sacco Di bianco All'interno Invece quella Macenta È meno luminosa Come luce Ah sta foto scusa Dove l'hai presa? Stavano già qua Eh metti una Una tua Sì Vabbè Non vale Se prendi la roba Loro Vediamo Mettiamola su Il mio dipinto Per vedere Quanto sono belli I miei dipinti E funzionano Realisticamente Eccoci qua Unlock HD mode Ah Capito Me la downscale Quando la carico Va bene Questa canzone Che ho messo adesso Che voi non sentite Però ci sta molto bene Quello che stiamo facendo Ok Non sembra funzionare Galieno studio Vabbè funziona Eh sul Vedi Più c'è Secondo me funziona Con i bianchi Perché Sulla fronte C'è poco bianco E funziona poco Invece Su occhi Naso E bocca C'è più bianco Quindi credo Reagisca con i bianchi Eh sì Reagisce con i bianchi Me la Ora Razzista A parte Da questa Nome Reagisce con i bianchi Ma è Stai Lo sei Ma io non c'è Non si assume Alcuna responsabilità Ma lo rifaccio Con questo sito Ci faccia vedere No Che lo pubblichi Sul discord Che lo Lo vendiamo Al mercato nero No Bianca No 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 Ecco la Ecco la Maeste Che stiamo facendo Che è L'Alabama Qua No 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 È per non fare Discriminazioni Cioè se Lo studio è contro Le discriminazioni Ok quindi Voi Juventus Non ho capito No no Si tira dentro tutto Eh appunto Bianco neri Tutto 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 Poi siccome noi viviamo Nella ridente macerata In cui Monumenti Monumenti E Strutture Del Ventennio Per forza Quel Ventennio Nel senso Vent'anni Sono tanti Un po' di meno Ottanta Novanta E ci sono stati Ma scusate Ha fatto notizia In tutta Italia Quando il signor Traini Sparò A persone Non bianche Si 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 avete risposto Solo persone macerata Fatemelo chiedi A chi non è di macerata Boh io non so Non so neanche di che stai parlando Allora nel 2019 No 17 18 18 Eh allora Troppo 18 Troppo indietro Perché poi Quando Arrestarono Il tipo Che fece la strada In moschea Sul suo cile Trovarono Il nome Di questo Traini Che fece Questo attentato A macerata Come se appartenesse Alla gang Dei Dei Assalitori Dei persone Dei mosche Quindi niente Ci fu questo pomeriggio In cui Macerata è nera Lo possiamo dire Purtroppo Macerata è molto nera E niente Questo si giovane Ai tante Luca Traini Prese Prese la macchina E Una pistol La sua bella Golf E lungo Uno dei due corsi principali Si mise a sparare A personaggi Ancora non sbloccati Eh Non solo Non puoi dirlo La sede del PD A Biaspalato Sparò A Corso Cairoli A Corso Cavour Il sindaco Incominciò A mandare messaggi Tramite pure la polizia A tutti i cittadini Viene stare chiusi in casa Ah pazzesco Per Perché si aveva paura Che E qui No no Si è avuta paura Si È stato Una cosa un po' eccessiva Allora io adesso in live Vi faccio vedere Il lavoro di Noko Con le nuove luci Che lavoro Che ha fatto Un attimo che Ti metto Non male eh Ad aggiungere alcuni punti luce Ed è top sto programma Ma in realtà Amacerata Bisogno di più lampioni È un po' oscura E secondo me Ci vuole più bianco All'interno della foto Perché credo reagisca Con i bianchi Ancora Vabbè Considerando che Alcuni punti Cioè Di corsi Scusate Non c'entra niente Qualcosa di noto Con quello che Dicevamo prima Che in alcuni punti Anche in corsi grossi Alcune Alle volte La luce manca Cioè Io abito praticamente Vicino Corso Cavour Che è il corso più grosso E È pericoloso Cioè Stasera Girava Un tizio Ho incontrato Un'amica Che mi ha detto Attenda Perché ci sta Un tizio ubriaco Con una birra Che si ferma A parlare con la gente A casa E Non è molto sicura Questo No vabbè Ma cioè Macerata city Grande Movida Pericolosa Però È senza lampioni Perché è nera Dicevamo Ah Però C'è anche da dire Che ho notato Anche il fatto Che Ultimamente Cioè Non c'è un giorno In cui In Corso Cavour Non passino I I pompieri Cioè Io vengo da Ascoli Che non è Piccola Come città Cioè Qua Ogni giorno Passano I pompieri A Sirene spiegate Non so Capisce Dove Ma perché è un centro storico Perché la via dove sta a lei È letteralmente la via Dove Possono scendere Per andare nel centro A Corso Cairoli Le ambulanze No Sta via Indipendenza I pompieri Quindi corrono De fretta Da te Tu li senti Per un fatto di percezione Ma in realtà Passano poco Le ambulanze Passavano tanto Nel periodo del covid Ma di per sé Penso che in realtà È perché Tu stai nella zona Ma io non li sento In via l'indipendenza Cioè li becco sempre In Corso Cavour A correre Come i pazzi Per salvare Situazioni Ma perché Macerata È on fire Eh sì E questa è l'unica risposta Macerata È on fire Like Piolli Esatto Vabbè Eh Così Comunque nessuno Ha detto Il suo ricordo Più bello Tranne Noko Brava Lupo Vai Ciammi Allora Ricordo più felice In realtà È tanto strano Perché io non ho Ricordi Netti Ero piccolo Erano Tanti parenti E mi ricordo Che arrivò Questo parente Che era Ritornato Alla Germania Che era però Molto alla lontana Però Gli volevo Tanto bene E fu una grande festa Perché c'erano Tantissime persone Tipo eravamo Undici Dodici Sì Ehm Più lato sicuro E E stavamo con nonna E Niente Un papà Aveva messo Sardegna 1 Perché da Sky Inzio Se poteva vedere I canali sardi E E siamo Restati lì A chiacchierare E poi non lo so perché Ma appunto una vespa Grande ricordo Addio ricordo felissimo Ma no È così Una vespa Una malaria No no Loro hanno fatto tutto Io ho detto Ma che cacchio Ma è una vespa 50 Vabbè Ma appunto No No Eh no Era un 125 No Ok E loro dopo Tutto tranquillo Rimessi a posto Giochiamo a carte Così Loro giocavano Perché io non sapevo Manco giocare a carte Ero bambino ancora Quindi Allora Provo a rispondere io Credo Io non ce l'ho molto Cioè non ce l'ho nitidi Ma perché fondamentalmente Fino alla grande Cioè fino all'audierna età Ok È stato sempre bellissimo Ma malamano È scemato Questo bellissimo Con Con la crescita Con la crescita Perché i regali Non erano più regali C'è senso No Adesso Sembra Perché Vanno ancora i regali No Esatto Penso Sono durati fino a Che non c'è stata Una crisi fondamentalmente I regali Perché Famiglia d'artisti E quindi non c'è mai Un euro Però ecco Sicuramente Sono legati a Quando ero più piccolo Che c'erano ancora tutti Secondo me Era un po' più fake La situazione Capito Tipo quella La pubblicità Della Coca-Cola Bene o male Per me Tutte le vigilie Perché noi La vigilia Scartiamo i regali Quindi Fino a mezzanotte Si gioca a carte O a Tombola O a Bingo O a Tutti ciò che Le carte Possibili Poi a mezzanotte Il grande Scartamento I regali Ovviamente Non così apprezzati Perché spesso Sono maglioni Queste cose qui No Sempre Tutti I ricordi di Natale Miei Sono bellissimi Diciamo questo Ok Fino a che non ci ho avuto 14 anni Che spesso Ho diventato un tossico No Ma è No Così questo Ma tossico perché Fumavi I Così Scarichi Della fabbrica Eh Sì Mi mettevo sui bocchettoni Delle macchine Sì 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 Un po' sì In realtà Sì Sì Sono ricordi belli Anch'io come il maestro Maestro Incredibile persona Questa è una piccola Prentesi E io non ho Una buona memoria Quindi io tendo a dimenticare le cose molto in là Solo che ho questi vaghi ricordi di quando ero ragazzino Che a Bari si faceva Io sono di Bari Baralecce Quindi ho i parenti anche a Bari E c'era un tavolo immenso 30-40 persone su un tavolo Capito? Cioè non fiva più su tavolo Questa era la nostra cena di Natale E poi in realtà di Natale Tra virgolette Perché durano 3-4 giorni No? Le cene Cene e pranzi E non si prima più E questi sono i ricordi belli Alla fine Le cene in mese Dovevi chiamare il parente Che stava a 2-20-60 metri di distanza Passi insalate Passi nelle porpette Non in romano Però in barese E poi dopo la sera C'erano i regali sotto l'albero Basta Però ecco Io sto d'accordo con questa visione Che è molto del sud Cioè Il Natale È quel momento Ovviamente Famiglia permettendo Situazione permettendo Però il Natale è quel momento In cui In maniera più o meno maschera sociale Ce se li vede Con tutti i parenti Perché Sì Cioè io adesso Non so se è perché Si cresce Ma vedo che La società Un po' ha spinto A questo sradicamento Del Focolare Familiare Sì Molto più nucleare La famiglia Mamma e papà e te Sì Cioè Nel senso Il Natale è un po' Quella cosa Quell'impostura sociale Che però serve a Mantenerci vivi Secondo me Sì Perché se Ci spogliamo Di tutte queste cose Tra virgolette Superficiali E non strettamente Legate alla sopravvivenza Cioè È quella cosa Che non ci rende animali Un pochino No? Cioè Non so Quelle piccole cose Umane Belle Che ci fanno sentire Umani E fieri Però ecco Mi rendo conto Che Cioè Anche per dir In cinque Cioè nel senso Famiglia E gli zii Gli unici Che hai a portata Però comunque Però sai che Per una mentalità Come quella attuale Molto individualistica Ma è anche il fatto Che condividi Con le persone Che sono Mezzali dell'anima Quei parenti buoni Di per sé Nell'immaginario Molto romantico Poi non è mai Del tutto vero Perché magari inviti pure Parenti con cui Non hai bei rapporti Ora nel caso mio Fra virgolette La Grazie Ma è Se guardi Il pubblico Così La La cosa è che Io ho mantenuto I rapporti Con i parenti A cui volevo bene E sono rimasti I parenti A cui volevo bene E infatti Li rivedo Li rivivo E sono felice Di stare con loro Ma pronto C'è un Un'idea di condivisione Che è legata a quello Ognuno porta Una cosa Non è per forza Che uno ospita E offre tutto lui Assolutamente C'è molto no Un interscambio Senza però stare lì A guardare Eh vabbè Lui ha portato De meno De me Si sa Chi non può Di meno Allora Già sai Già conti Che darei un po' di più Tu Se sei messo bene Cioè È un po' più collettiva Mettiamola così Amici Vi stiamo facendo Cambiare idea Sul Natale Assolutamente no Ma guarda No Anche no Ma il punto è che Secondo me Secondo me Giustamente Sta pensando eh vampire Ma che fa schifo uguale Vai vai Secondo me Dipende pure Nel senso Ci si nasce nella famiglia Quindi ti capita Quel che ti capita Ripeto Io ho avuto fortuna Che i parenti A cui voglio bene Sono quelli Che frequento di più E quelli che ripeto Più spesso A Natale Alle feste comandate Quindi magari Io me la pio Gesù Sofra di divino Vi inizieremo Anche a questo meme Ragazzi Però no Sentivo Bucefalo Bello Sì Bucefalo Vampire Bello Bello cambiato Di idea No Di opinione No assolutamente No 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 Pareva eh però No 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 Io ascolto No no Io ascolto Io ascolto Perché è importante Sapere il parere Gli altri Poi Io continuo Ad avere La mia visione Del Natale Che è orripilante Quindi No Ma no Ma prego 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 Perché il maestro Stava finendo O sbaglio Eh sì Più che altro Questo è Nel senso È denaturato Dall'aspetto religioso Chi è cattolico La festeggia In maniera cattolica Però È semplicemente Il punto di incontro E di riallaccio Con quelle persone Che appunto Già Già vivo bene Non c'è di mezzo Un regalo Per forza Proprio La cosa è quella Il legame Il legame Cioè non è che io Mi aspetto che mi facciano Il regalo gli zii O i cugini Gli faccio il regalo Anzi Stiamo a giocare a carte Molte volte Anche senza soldi Sì sì Il piacere Di passare del tempo Insieme Tra persone Che condividono Esatto Anche un po' Per la questione Del contatto Col passato I ricordi Le cose Esatto Nera Dopo se vuoi C'è pubblico Sul discord Come sta procedendo Che sto curioso Anch'io Uno screenshot Se si può Oppure adesso Sarei entrata Un'animazione Un po' difficile E mi viene da dire Stavolta no Perché Che è proprio Ora Abbastanza Cazzo Diggilo Nera Cazzo Cioè Ok Non è al massimo Del potenziale Non ho sentito Bisogna dirgli Che ero Cazzo Che è Però Chiede queste cose Nera Non te lo dice Perché è una brava persona Educata E tutto Però Sta a lavorare A po' Raffia Mi ero un pericoglioni Infatti Vabbè Faccio Di Non essermi offeso Sì Arrivato Adesso chiuderò Bella questa battuta D'erro No no D'erro in chat Che c'è qualcuno Ancora in chat Sembra di no Però in realtà Ogni tanto È vero che siamo in live In live No nessuno Dice Vabbè Comunque Cioè Tipo Io Detesto il Natale Ma non per lo stesso motivo De De Cosa Non mi ricordo come ti chiami Mi dispiace Di Vampire Di Vampire Ma Proprio per Il motivo Che Ha detto Gianmarco Invece Cioè io Purtroppo Ogni volta Il Natale Mi ricorda Quella Quello Stereotipo Di famiglia Che io Non ho mai avuto Non ho mai avuto Il piacere di avere Perché Cioè c'è stato un periodo Quando io ero piccola In cui c'era Questa vigilia di Natale Pazzesca In cui si scartavano i regali In cui mia zia Scendeva da Lucca Ci veniva a trovare Io vedevo Io vedevo L'unico Cugino Che ho di primo grado Che ha tipo Così E coglioni Più grande di me Quindi Quei momenti Erano belli Però Era una Finzione Perché alla fine Si detestavano tutti quanti L'uno con l'altro Quindi Fondamentalmente Quando Sono venute a mancare In primis Mia nonna paterna Che era Quella che ospitava Tendenzialmente Soprattutto la vigilia Perché per me Il Natale È stato sempre In funzione Della vigilia Non del giorno di Natale Perché la vigilia Si è più Non i regali Quello lupo è importante È la perdita Del caposaldo Sì Dell'evento Esatto Quando è venuta A mancare Lei che era Quella che cucinava Quella che ospitava Cioè noi ci abbiamo riprovato L'anno successivo A fare il Natale lì Però si sentiva Quella mancanza Due anni dopo È venuta a mancare Mia nonna Mia nonna materna Che era letteralmente Il caposaldo Della mia famiglia Cioè per me era Cioè quando è morta Mia nonna È morta la mia infanzia Letteralmente Quindi gli anni successivi Al 2014 Per me il Natale è svanito Cioè non c'è stato più Quindi ogni volta Che arriva Natale Io vivo nella Nella malinconica Nostalgia di quei momenti E mi fa malissimo Come cosa Perché siamo rimasti Io Mio padre e mia madre Mia zia Io non la vedo Da tre anni Mio cugino Non lo vedo da otto Se non di più Quindi È come dire Cavolo Minchia che bene Ecco perché prima dicevo Cioè Io ho iniziato a passare Il Natale Da due anni a sapatte E altrove Non lo vedo più Non lo sento più Come un giorno Di festa Non lo sento più Come un giorno Ma lo sento come Un giorno Di malinconia totale Perché vedo le lucine Le vedo le luminari Intorno E dico Che palle E gli altri hanno Quello che io non ho E mi parte Un istinto brutto Che è quello Dell'invidiare Eh però vuol dire Che avete abbandonato Tutti troppo presto L'impostura sociale Ma perché averla Cioè Perché Perché E questa è la domanda Che vedo che Un attimino fa Cioè perché averla Cioè io Perché è l'unico In che senso L'impostura sociale Che è comunque L'unico momento Per vedere Le persone Atte legate Cioè appunto In Per andare contro A questo individualismo Galoppante Che la società Con cui la società Prova a affiaccarci Eccolo Davide Bentornato Bentornato Per combattere Questo incredibile Individualismo A costo di Impostare Questo ce l'avete voi Nel caso mio No 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 Ma infatti Ma secondo me Diceva Lupo prima Cioè non è magari Abbiamo scelto Di Mollarlo Quanto È stato il tempo A portarci A questa Scelta Decisione Le situazioni Situazioni Io se potessi avere Ancora Una Una nonna Con cui mangiare O Una zia Con cui scartare Regali E dire grazie Per me sarebbe Diverso Ok Ma Non è più così Cioè Mettiamoci anche Per esempio Nel mio caso La mancanza La mancanza Di quella tradizione Del cucinare Perché oramai Quello che facciamo Io e la mia famiglia Cioè io Mamma e papà Perché siamo solamente noi E se ci vogliamo Aggiungere i miei cinque cani Per allargare È andare a comprare Il cibo Non Non abbiamo più Quella cosa Di Mettere a cucinare L'agnello Il giorno prima Mettere a fare Le olive Fare la torta Fare gli antipasti L'attesa Che l'ospite arrivi Cioè Che mia zia arrivi Il preparare L'apparecchiare Cioè questa cosa Non c'è più Il mettere Cioè Il Natale Per me È Vivere Un Un fantasma Del passato Una festività Fantasma Del passato Perché Non ho più L'occasione Di A meno che Un giorno Non avrò Una famiglia mia Cosa che Dubito Accadrà mai Nel senso Tipo Io Mio compagno E i figli Ok Ma Non penso proprio Accadrà perché Non sono quel genere Di persona Però Mai dire mai Si ricreerà Appunto Quella situazione Io adesso È il Natale Mangio con i miei E poi Per esempio Mi sono messa Questo piccolo rituale Di uscire Con i miei cani Fumarmi una sigaretta E fare il percorso Che facevo Con mia nonna Quando era Natale La chiacchierata Notturna Però Sono tutte cose Che sono Un fantasma Del passato Sono tutte cose Fantasma Del passato Ragazzi Cioè È normale È normale che Hai Quando superi 15 anni Arriverai a 20 25 30 40 La gente Che tu Hai visto Per tutti questi anni Piano piano Sparirà Perché ognuno Ha una vita Perché ognuno Muore Perché ognuno Che cazzo ne so Gli sta sul cazzo L'altro Cioè il discorso È Cioè Io penso Che questo Non è Non si Scusami Scusami se mi permetto Questo non è Coso Non è Cioè nel senso Chiamo Coso Non ti preoccupare No ti volevo chiamare Coso Prima Cioè Questo non è Secondo me Il pensiero Del Natale Secondo me Ci dovrebbe essere Un pensiero Del Natale Dovrebbe essere Che Nel Natale Si sta Cioè Ci sia la magia In famiglia Cioè nel senso Si è contenti Di vedersi Si è contenti Di stare insieme Indipendentemente Dal Cena Non cena Regali Non regali Renato Zero Un tv I canti di Natale Dei ragazzini Che spero Si massacrino A vicenda Un giorno Il giubileo Del papa Che magari Viene Insomma Tutta Tutta una serie De cazzi E de cose Il discorso è Cosa si vuole Dal Natale Cioè Io Personalmente Se dovrei Celebrare Il Natale Vorrei Che ci fosse Davvero Una tradizione Che porta Del mio Paese Però purtroppo Non c'è Perché è diventata Una tradizione Per accomodare Tutti Cioè Perlomeno L'europeo Base Perlomeno L'europeo Anche l'americano E anche l'americano Base E questa è la cosa Che Da grande Non ho più provato Del Natale Personalmente E questo Che mi dà fastidio Del Natale Quando ero Bambino Era perché Come ho detto Pure prima È successo Che ho una famiglia Purtroppo Di merda E Ogni Ogni ritrovo Familiare Era semplicemente Per mostrare Il cazzo A vedere Chi ce l'ha Più lungo Metaforicamente Parlando E quindi Non Cioè Tutti quegli anni In cui magari Vedevi Il bel Natale In tv I film Del Natale In tv Oppure I racconti Dei tuoi amici O dei tuoi parenti Ci sono stati Per esempio Però Io ho avuto La bellezza Ok Ho avuto Dei Natali Di merda L'odio E tutto quanto Però Quello che Quello che Mi è rimasto Impresso Per esempio Di recente È che ho passato Natale A casa di amici Non c'erano I genitori Di nessuno Uno di loro Aveva casa disponibile Abbiamo fatto Natale Con gli amici Ma Il quale è stato Il fulcro del Natale Farci una bella mangiata Distruggere Prende tipo Il Natale Raccontando Le vicende Più Brutte O ripilanti O comunque Ridicole E Ma allo stesso tempo Avere Cioè Vedere che Prende Nonostante Io sono Anticlericale Sono una persona Cioè detto Sono infedele Bastardo Ho trovato Oltre persone Come me Che comunque Cioè Il loro pensiero Della tradizione Non è quello Che effettivamente La tradizione Ti Ti mette E quindi Ne fai un po' Una 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 critica Tutto qua Però è diventato Però ecco Quello si può dire Diciamo una cosa Di forma bella Del Natale Perché almeno lì Sono stato A ridere A scherzare Sono tornato felice A casa E E almeno Non ho passato Un Natale Che o Stavi a casa A chiuderti Nei videogiochi Oppure Perché Devi Sentire Per forza Tuo nonno Tua nonna Che ti dà Del fallito Sì 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 Vi posso sottoporre A un quesito Io mi stavo chiedendo No Cioè Forse in postura sociale Era un po' Greve Come No 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 Invece L'ho provato giusto L'ho capito subito E l'ho trovato giusto Personale Però io in realtà Volevo parare più Sul fatto Del Appunto Che fa sempre parte Dello Spogliarsi Del Chiamiamolo Innecessario A questo punto Anche nei legami umani Però Cioè Come è possibile Che Io adesso parlo Da persona Per il quale appunto Sta iniziando a svanire Questa magia Perché Perché nonna È in totale demenza senile Nonno Non c'è più Che erano i possessori Della casa Dei famosi natali Casa è stata venduta Appunto C'è una C'è David Bowie Non c'è più la musica di natale Meno male Ehm Cioè Perché In passato Nel senso Perché Quest'ultimo Ventennio È il ventennio Del disfacimento De queste traizioni E appunto Non è tanto L'impostura Ma è un impegno Morale Mantenerle vive Cioè Nel senso Come È un po' Il discorso Del Che poi È un po' Più ampio Questo Però È come Il discorso Del Perché adesso I matrimoni Non funzionano più Perché prima Funzionavano Funzionavano Perché erano imposti E ok Non funzionavano Perché c'era l'impegno E noi ci stiamo spogliando Anche dell'impegno Nel volerle mantenere Certe cose Impegno O Convenienza Perché molte volte All'epoca Queste cose Concidevano Sì Nel senso L'impegno E la convenienza Nell'ambito matrimoniale Erano dati anche Dal ricatto sociale Sulla donna Esatto Divorziare Voleva dire Perdere letteralmente Tutti E morire di fame È una situazione Molto complessa Ovviamente Però Sull'ambito Delle relazioni Io In tutto il discorso Che è stato fatto Prima da te Adesso da Federico A me veniva da dire Perché Perché continuare A festeggiare il Natale Perché sì Moriranno tutti Ma nel frattempo Che fai? Stanno morendo tutti Non è che il Natale resta Gli altri parenti restano E adesso Se stai crescendo Devi diventare maturo Cavoli Che fai? Te butti giù Non è tanto un discorso Su quello che dici tu Anzi Coso Come se Scherzo Ok Il vampiro Che sei Che sei in terra Non Non è tanto Un discorso Su di te Ma più che altro In quello che è L'atmosfera Che stavamo raccontando Di come ci si declina Sempre di più Verso un individualismo Solo perché Noi Individualisticamente Vediamo che finisce La magia del Natale Di noi da bambini Non vuol dire che Non si Non si devono più vedere I parenti buoni Quelli non tossici Che non si devono Vire più le relazioni umane Poi tra l'altro Chi l'ha mai detto Che non si faccia il Natale Fra amici Amici di famiglia Che poi sono anche Gli zii adottivi Volendo No Cioè Non deve essere per forza Intesa la famiglia Come quella di sangue A me non interessa Minimamente Che ci siano I parenti di sangue Interessa il fatto Che è un modo Per curarsi dell'altro E quando tu Incominci a crescere Devi accettare Che tra le varie Responsabilità C'è curarsi dell'altro Io in questo caso Nella mia famiglia Sono morte tante persone Alcuni parenti Non si vedono Fra di loro Ma io Nonostante tutto Cerco di trovare il tempo E così sto cercando Di fare Pure se farò Tre giorni Tranquillissimi Sarà un cardiopalma Per vederli tutti Perché magari Certi parenti Non vogliono vedersi E quindi andrò da loro E poi andrò dagli altri Ma perché Il punto è quello Dare Sì dare Siamo fatti oramai Per crescere Sì ma io sono Nel parere Che dai Quando è una persona Meritevole Cioè ad esempio Lupo Aveva una nonna A cui dare Di essere meritevole Ma dove Hai dei parenti Che spalano Merda Ogni dove Perché Si sentono Magari Inadeguati Oppure perché Fanno una vita Che in verità Invidiano la tua Perché Oppure non la capiscono La tua Esempio mio Perché io vengo Da persone Che sono state Davanti al cantiere Ogni santo giorno Un artista Non mi è mai fregato Un cazzo Il massimo Di lettura Dei fumetti Che leggeva La mia famiglia È Tex Cioè proprio Basico Proprio Cosa Molto basica Non c'era Una ricerca Dell'arte C'era più Un abbandono Un abbandono Dell'arte Cioè anzi Io per fare una battuta Una sorta D'abbandono Dell'oriente Come se Mi avesse fatto Virgo Dei Cavalieri Dello Zodiaco Che mi ha levato Tutti i sensi Cioè Questa Però il discorso Perché c'è La voglia Di Voglio costruire Qualcosa Ma laddove Vedi che Non c'è Questa voglia Non c'è Mai stata Non è che Non ho fatto Natali In altri In altri luoghi Oltre la famiglia Ho fatto anche Natali Da amici Di famiglia Ma ho visto Lo stesso Astrattismo Cioè Ok Sì Stiamo qua Mangiamo Emo Magnato Sì A posto Sei contento Sì Ok Tanti auguri Probabilmente Perché sei troppo Inquinato Dall'esperienza Negativa Sì Non è che Non è che Lo nego Però Metteci pure Che ho trovato Cioè nel senso Vedo Vedo che comunque Ci sono cose In cui Non C'è una Cioè C'è diciamo Una voglia Di stare insieme Tanto perché Ormai Qualcosa Al 25 Dicembre Cioè il 24 Al 25 Al 26 Se deve fare E' così Che l'ho vista E' così Che l'ho Vissuta Non ho mai Avuto un esempio Di Facciamo il Natale Perché è bello Perché è una magia Che dobbiamo Costruire insieme Non Non c'è mai stato Quando avevo Magari Che ne so 15 20 anni Una Magia del tipo Venite qui Alle 5 Per pomeriggio Tutti insieme Si cucine insieme Perché magari Questa potrebbe essere Una bella Un bel Motive Per poter Per poter Costruire qualcosa Insieme Il preparare Da mangiare Oppure Tu che vuoi Tu che vuoi Tu che vuoi mangiare Tu che vuoi mangiare Più o meno Tutti insieme Si fa qualcosa Si costruisce qualcosa Non sempre il solito Natale preimpostato Dove Nonna ha fatto i carciofi Zia ha fatto La lasagna L'altro ha fatto La caponata De pesce Magari Bello però Si per carità Bello Però Nel senso Poi però In maniera individuale In 15 20 parenti Poi c'è Sta sempre quello Che magari Non te magna qualcosa E non c'è mai stato Un Volete fare questo Volete mangiare questo Cioè Proprio è quello Che è lo spirito Che mi è sempre mancato Lo spirito di condivisione Di condivisione Delle cose Anche delle più piccole Anche delle più stupide Ok non è che il mangiare Era focale Però Anche Nel senso La condivisione Di 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 creare insieme La magia del Natale Cioè Di Di raccontarsi le cose Cioè Invece di Invece di Prendersi Che invidia Scusami se ti interrompo Ma su questo è ovvio Nel senso che Se devi viverla male Perché sono persone Che sbagliano La situazione E che stanno lì Per fare In realtà Del male agli altri Perché Hanno un bisogno egoistico Di non stare in solitudine Capire Nella loro Ottica Nella loro moralità Ah ho fallito Perché non ho fatto Il Natale con nessuno Guarda che Che schifo Che ho combinato Dove sono arrivato Sciocchezze Ho passato pure Due Natali da soli Durante e dopo il covid E sono stato una pasqua Ho fatto la stessa cosa Che ho fatto sempre Però tramite Whatsapp Ho chiamato Quei parenti Ho parlato con i miei zii Con mia cugina E siamo stati benissimo Perché Secondo me È pure un fatto Di sinergie Io penso di essere A fronte della discussione Che stiamo avendo Molto fortunato Per quella situazione Che c'avevo Perché Alla fine Troppo piccolo C'era questa mia cugina Che mi sapeva prendere No? Quindi stavo molto con lei E lei Che non ne poteva fregare De meno De guardare la televisione sarda Stava insieme a me E mio padre E si faceva raccontare I significati Di quelle cose Ed era un modo Per aprirsi per mio padre Che è una persona Un po' silenziosa Un modo Per vivere Questa sorta Di particolare Sorellanza Che lei Di fratellanza Per me Che sentivo Che sentivamo A vicenda Perché ci siamo Sempre considerati Più stretti Che dei cugini Poi è ovvio Nel caso mio Pure sul cibo Non decidevo Di certo io Però Si mangiava Tradizionale E' una cosa particolare Ma se vedi Che c'è la persona Che Io non sto parlando Di me Perché Diverso Cioè nel senso A parte mangiare A me Cioè Faccio un esempio Mia nonna I carcioli fritti Non li sapeva fare Era proprio uno schifo Però è che stai A mangiare Lo stronzo Proprio detto Palesemente Io per anni Io li ho sempre schippati E Quando Mi hanno Molte volte imboccati A forza Per chiesa Non Nonna Si offende Tutte volte Dicevo Sti cazzi Un po' napoletano Qua eh Eh si Vedo Cioè un po' Così E il discorso È che Cioè Per esempio Non c'è mai stato Però non è che Ero solamente io Il problema Magari all'interno Di mia famiglia C'era una persona Che non potevano mangiare Non so Il pesce Non potevano mangiare Certo tipo De carne Queste cose qui Però non è che Si è mai indagato Del tipo Cioè Nel senso Erano cose Che comunque Togliendo me Gli facevano davvero male Il discorso è Possiamo Cioè Per una volta In Natale Cioè sono stato io All'interno a chiedere E ho fatto Nonna Ma perché non chiedi A chi cosa piace Agli altri Chi te lo fa fare Di sbatterti Di fare sempre Le stesse cose Chiedi qualcosa Che magari Possiamo fare Perché se no Qualcun altro può fare Non gliene è mai fregato Un cazzo Poi soprattutto Per esempio Tipo mio padre Dava fastidio Che cucinava mia nonna Soprattutto in tardetà Perché era una cosa Che dice Lei già non sta bene Di suo E poi la fate pure cucinare Cioè E però Ai miei A miei zii E cose Non gliene è mai fregato niente Non gliene è mai fregato niente Tanto finché c'era La vecchia Che si metteva lì A fare le cose per gli altri Tutto a posto Come ti capisco Nera buonanotte 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 nera Notte nera Tanto tra poco Stacchiamo Che è ora Grazie nera Buonanotte Un bacione Ciao a voi Ciao 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 Buonanotte Buonanotte Buone ferie Ciao Ciao nera Buon Natale Buon Natale Grazie Buon Natale nera E comunque Cioè capisco Qual è il discorso Ho glicciato Trevor Ho glicciato Ho glicciato Eccoci 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 No Mi sa che è spicci mio Che stava glicciando E cioè capisco Quello è quello Che è il discorso Che volevo Far puntualizzare Non c'è stato Spirito di condivisione Un Un Si vuol Natale fascio Uno Non poneva La cosa Natale A piacere L'orettore Nè No 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 Io guardate Potrei concludere Un po' Con Con questa Paravola No Che Credo che All'atto Pratico Aspetti che L'ha sposto Dall'albero Ok All'atto Pratico Appunto Ci stiamo Effettivamente Spogliando Di queste Tradizioni Che Iniziano a star Strette All'essere umano Ma Cioè anche per Motivi Nobili Appartengono Perché Dover Imposturare Tutte queste cose Sarà bello Un attimo Capire Che Che strade Prenderà Questo Nuovo Festeggiamento Del Natale Perché appunto Quello che fa Vampire Secondo me È giustificatissimo Cioè nel senso Però spero che La cosa intrinseca Del Grazie Lerro La cosa intrinseca Del Natale Che appunto è Lo spirito di Star bene Una volta all'anno E riunirsi Con persone Che Raramente O comunque Con le persone Vogliono bene Sarà un attimo Interessante Capire che Che piega Sociale Prenderà Il nuovo Festeggiamento Del Natale Post 2000 2020 2010 Quello che è E appunto Magari è un'idea 50 Quella che Stiamo continuando A vivere E Risulta Un po' Una parodia Perché Non riflette più I bisogni Bisogni di una società Che sta cambiando Ma Non riflette più I bisogni di una società Che sta cambiando Cioè Io ho avuto Una discussione Con mio padre Tipo Quasi un annetto fa Proprio sotto Sotto Natale Non voglio tirare in ballo La discussione Perché Centrava molto Il discorso LGBTQ+, La famiglia Non convenzionale Però In parte Centra Perché Noi stiamo andando Verso un mondo In cui Si riconosce Cioè Si ricerca anche Troppo Di tutto Del non convenzionale Quindi Il Natale Diventa una cosa Convenzionale Quindi non si Non si respira più Quella cosa Che era il Natale Una volta Cioè La famiglia Perché Lo spirito della famiglia Sta andando a svanire Sì Cioè È proprio Il principio Non è il Natale Non è il Natale È il concetto di famiglia Secondo me Che sta andando Proprio a farsi fotere Perché il Natale È strettamente legato Al concetto di famiglia Tutto sta Nello scardinarlo Dalla famiglia De sangue E renderlo A pieni poteri La famiglia Ovvero persone Con cui Va bene Esatto Ma tant'è che Cioè Io ripeto Io ho vissuto Gli ultimi Natali Con 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 il mio compagno Giù in Molise E io Da quel momento Ho iniziato Veramente a riapprezzare Il Natale Perché Abbiamo fatto Questa Queste cene Abbiamo cucinato insieme C'era quello che Diceva Vampire Cioè Come ci sono molte persone Intolleranti Allergiche Tante persone Con cazzi vari Allora Ci si prende La briga Di cucinare Una cosa Buona Anche per loro Perché io C'ho questo ricordo Di mia zia Intollerante Al lattosio Che nonna Cucinava E lei si mangiava La mozzarella Con la tavola In bandita Tanta roba Intollerante al lattosio Mangiava la mozzarella Scusate Non intollerante al lattosio Che cavolo c'aveva Mia zia Vabbè Al glutine Si mangiava sempre Sta cavolo di mozzarella Con Mi è rimasto impresso Questo ricordo Che la tavola In bandita Lei Mozzarella Insalata Invece Però L'importante Non era quello Che si mangiava Si ma Si poteva cucinare Qualcosa anche per lei Esatto Esatto Ci si poteva Anche perché La cosa più grave È che Chi cucinava Era sua mamma Cioè mia nonna Quindi Non una grande persona Allora Questa incredibile nonna Sta un po' decadendo Io l'ho conosciuta Per neanche otto anni Quindi figurati È una persona Che è nei miei ricordi E basta Troppo Comunque Al di là di questo Quando Si è fatto il Natale Insieme Giù in Molise Ognuno si prendeva La briga di Preparare qualcosa Di sfizioso Anche per chi Aveva dei problemi Alimentari Certo Anche la cura Il pensiero Oppure Tipo adesso Stiamo organizzando Il Babbo Natale Segreto Ma non per i regali Ma per il puro piacere Di pensare L'altra persona Che è una cosa Che non riesce Bene a tutti Quindi Esatto Siamo giunti Credo Siamo giunti In libreria Siamo giunti In chat out E giunti In libreria E Feltrinelli Feltrinelli Allora ragazzi Io credo che Sia stato Un bellissimo Caldiero in studio Questo Lo penso anch'io Lo penso Anche se Va a posto E Non c'era bisogno Di dirlo Perché in realtà È vero Io ho apprezzato Questo Caldiero in studio O Caldiero In studio Faccio un applauso Eccolo qua Bravi Bravi tutti Allora facciamo un attimo Prima di chiudere Un reveal Dei lavori Così vi rompo il cazzo Ancora Un po' Sì sì Tanto non ho finito Quindi O finirò Penso domani Allora vediamo questo Di vampire Stavo facendo Babbo Natale E Gazzu Bello Gazzu Natale Guarda Visto che siamo in tema Adesso ti faccio vedere Un'altra cosa Che ha iniziato Il mio compagno Qualche tempo fa Su Gazz Vai Con l'occhio dietro Che cos'è Un sole nero No Spoiler Sole nero No Piano Piano Sole nero Io non ho detto niente Un sole caldiero Un sole caldiero Un sole caldiero Bello Quello che se va anche Vediamo Aspetta che te lo metto Così I culi ci sono Eh sono bravo Ve lo presento Perché se no Un bel culo Il mine De caldiero In studio Non lo so Se lo vedo No no Io credo ci sia Ancora molto lavoro Da fare Eh se va Però Sì dici Cosa dovrei fare Ancora Vediamo Clip studio pain No no Adesso che zoom Vediamo un po' È che È tutto molto lo fai Cioè nel senso Non è colpa mia però No lo fai Nel senso Ah lo fai Lo fai Lo resolution Ah no 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 Nel senso che C'è un po' Che è Poco contrastato Cioè non ci sono Tanti neri E tanti bianchi Come punti luce E punti ombre Fa ridere Che questa cosa Non ci sono i bianchi E i neri No in realtà ci sono È poco contrastato Quello faceva ridere Unire Quelle due paroline magiche Ma solo perché Io sono caravaggesco Caravaggesco Eh no Ci sta Ci sta Vabbè adesso vediamo Però Un grande lavoro Still Aspetta che Ma te lo Ti faccia vedere In condivisione Scherno Così possiamo Schernirla Ecco bene Davide lei si è goduto La serata spero Prova Chissà Pronti a uscire Dalla chiamata Il lavoretto A cui si sta C'è Stava lavorando Il compagno mio Che cazzo Di Berserk No Che succede C'è l'immagine Bellino Bellino Cioè non l'ha fatto Totalmente lui Lui stava solamente Definendo ste parti qua E ha preso Poi le Una Ha inculato un lavoro E la sta migliorando No Ha avuto Praticamente Le royalties Ha avuto Praticamente L'idea Che ci voleva Fa Mi ricordo Che cosa E Lo stava Modificando Però non è La sua visione La sua visione La sua visione La sua mission Artista visionario Va bene Ragazzacci Io credo che siamo giunti Al momento dei saluti E vorrei ringraziare Prima di tutto I dipartiti Quindi Nera Taxo Bucefalo Che c'è Che è presente Eccolo Eccoci qua Vampire Seba La signorina lupo È il maestro È il maestro È finito pure l'album Mi sa No E Facciamo vedere L'albero Un attimo Facciamo un'altra zoomata Albero in studio Ecco Galvero in studio Galvero in studio Con sopra Se lo vedete Il cappellino Di un anno Su Twitch Ricordiamolo Questa tragedia Che è successo Ricordiamolo Che un anno Su Twitch È un cono Stile incompetente È un cono stradale Quello Non è il cappello No no È il cappello del compleanno Bah ok Quello che ho portato In maratona Fatto a inizio maratona Con l'elastinino No è che Non ti guardo Caldiero Per quello Non so Non Eh sì È un cono stradale Sì È iconico È un iconico È un iconico Un cazzo È iconico Va bene Allora Quindi ragazzi Grazie mille Grazie alla chat Tutta C'è qualcuno Da redare Lo facciamo al volo Vediamo un po' Chi c'ho Tra i miei Non c'è Bael live No Lo vedo Che sta facendo Quell'uomo Eh sì Te la soffroni C'è Kiki Tra c'è Kiki Kiki Design La vediamo Kiki Design C'è Boiarte Boiarte Allora Ma c'è anche Il buon Pao Che è una vita Che non lo rai È il Pao È il Sao Pao È vero Eh dai Si fa Sto Cambeccone Il buon Pao Dai Un po' scontato Va bene ragazzi Grazie Grazie ancora Gente Apprezzo sempre Le vostre presenze Prego Vi voglio bene anche per questo Vai prego Sembra una risposta Aspetto i pagamenti Come al solito Che non arriveranno mai La solita La solita 100 euro La solita piotta Cos'è una piottella Va bene Ragazzi Grazie Grazie ancora Buonanotte a tutti È buon Natale 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 Quando sarà il prossimo Quello di studio Vediamo Il 22 Eh Toccafallo da solo Eh che scelte No Per me Per me Ma lei Vampire Non c'aveva la serata CDR Il mercoledì Sì Eh Ma me finisce prima Ma grandissimo M'è finita prima Perché Abbiamo deciso Di Di Anticipare Visto che il 22 Il master È al lavoro Quindi Abbiamo capito Va bene Allora molto volentieri Chi vorrà il 22 Prossimo Calderio di studio Facchiamo tutto Buona Buonanotte Gente Facchiamo tutto Notte Grazie ancora Buonanotte a tutti Ci vediamo su YouTube M No 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 Grazie a tutti